Buongiorno, benvenuti a tutti alla prima giornata della sessione economica del ciclo di seminari organizzato da associazioni Sottosopra. Io sono Enrico Turco, studente di dottorato di economia e mi è stato affidato il compito di introdurre in questa sessione, in particolare questa giornata. Il titolo della sessione economica si chiama Stagnazione italiana nel contesto europeo e si tratta di un'occasione davvero importante in cui avremo modo di affrontare una serie di temi di economia e politica sia italiana che europea, temi di cui proverò ora a fornire una breve sintesi. Innanzitutto partiremo con l'intervento di Massimo Amato, professore dell'Università Bocconi, su come salvare il mercato dal capitalismo. Il capitalismo che è entrato in crisi nel 2007-2008 e a 12 anni ormai da quell'evento, la crisi dei multi-subprime, ci troviamo ad assistere a una ripresa ancora estremamente debole, caratterizzata da bassa crescita e elevata disoccupazione. Quindi dovremmo chiederci qual è il capitalismo che è entrato in crisi nel 2007-2008. Si dice che si parla di capitalismo finanziario globale o capitalismo money manager, come lo chiamava Mischi, quella configurazione del sistema economico che ha preso forma in seguito alle riforme neoliberiste del mercato e di deregolamentazione, del mercato del lavoro, dei movimenti di capitali intorno agli anni 70-80 e che hanno portato ad una progressiva globalizzazione della produzione e della finanza, ad una precarizzazione del lavoro e un indebolimento del ruolo dei sindacati. Il risultato è stato una stagnazione dei salari, un aumento delle disuguaglianze, del reddito e un calo strutturale della domanda aggregata. Allo stesso tempo l'espansione del settore finanziario e quindi la spinta derivante dall'innovazione finanziaria ha contribuito a sostenere il consumo a debito delle famiglie più povere a costo però di un crescente indebitamento privato e di una instabilità finanziaria. In aggiunta, la finanziarizzazione dell'economia e delle imprese non finanziarie ha spinto queste ultime imprese quotate ad adottare una visione sempre più di breve termine orientata alla massimizzazione del valore azionario anziché a una crescita di lungo periodo. Il risultato è stato che le imprese hanno trovato più conveniente investire in attività finanziarie e distribuire profitti agli azionisti sotto forma di dividendi, riacquisto delle proprie azioni anziché in investimenti in cerchi e sviluppo, in occupazione in capitale produttivo. Nella teoria economica terrodossa questo processo prende il nome di finanziarizzazione dell'accumulazione del capitale che, producendo una valorizzazione delle attività finanziarie senza una corrispondiva crescita della struttura produttiva, ha portato l'economia globale in uno stato di stagnazione economica ed espansione finanziaria. La crisi del 2007-2008, che ricordiamolo al suo epicentro nella finanza privata statunitense, si è presto abbattuta severamente in Europa nel 2009-2010, che è poi degenerata in una crisi delle finanze pubbliche, a seguito degli interventi statali volti a salvare il sistema bancario e finanziario. Tuttavia le regole di bilancio contenute nei tradotti di Maastricht e fatte rigidamente rispettare dalle istituzioni europee, Commissione europea, Consiglio, Banca centrale europea, imponevano agli Stati membri di contenere la crescita del debito pubblico attraverso aumenti di tasse e tagli alla spesa pubblica, avviando così una stagione di austerità e di riforme strutturali di cui stiamo ancora vedendo gli effetti. La crisi del debito sovrano, o come alcuni dicono, debito non sovrano, ha mostrato tutte le debolezze e difetti della costruzione dell'architettura istituzionale europea, che a detta di Lorenzo Binismaghi, ex economista della Banca centrale europea, è l'unica area al mondo ad essere caratterizzata da una netta separazione tra le funzioni di politica monetaria e di politica fiscale. Questo paradosso istituzionale è una diretta conseguenza della scelta dei padri fondatori dell'Unione economica monetaria di attribuire l'emissione di moneta ad un ente sovranazionale, la Banca centrale europea, che per statuto non è tenuto ad acquistare titoli di Stato sul mercato primario o secondario. Lo Stato si trova così a spendere una valuta che deve prendere a prestito ai mercati finanziari, il debito pubblico nazionale dominato così in una valuta di cui lo Stato non ha il potere di emettere. Questo rende i governi nazionali soggetti alle richieste e ai malumori dei mercati finanziari e lo spread di cui sentiamo spesso parlare nei giornali diventa così uno strumento di disciplina dell'azione dei governi. Eppure basterebbe un impegno incondizionato, quindi una riforma generale del sistema monetario europeo che è basata su un impegno incondizionato da parte della Banca centrale di garantire l'assolubilità dei titoli pubblici, per allontanare ogni presunto rischio default e consentire agli Stati membri di perseguire una politica fiscale espansiva orientata alla crescita dell'occupazione. Insomma la partita è tutta politica, a poco a che vedere con la razionalità economica e ci piacerebbe che questi temi fossero più discussi anche adesso nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee. Della sfida dell'Italia nella Eurozona e dei rapporti tra Stato indebitato e creditori parleremo oggi pomeriggio rispettivamente con Ernesto Screpanti alle 14 e Guido Grossi alle 16 e 30. Ora invece c'è della parola a Silvia che introdurrà il professore Massimo Amato. Prima di concedarmi volevo ricordare che le giornate di economia del ciclo di sotto sopra non finiscono qui, sabato 25 maggio alle ore 15 avremo ospite il professor Marco Veronese Passarella dell'Università di Leeds che ci parlerà delle cause strutturali e congiunturali della stagnazione italiana, mentre alle 17 sempre sabato 25 maggio ci sarà un interessante dibattito tra Randall Ray, l'Università di Missouri Kansas City in America e Passaggio Cesaratto, Università di Siena, sul spread come strumento di disciplina dell'Eurozona. Quindi ora cedo parola a Silvia. Grazie mille Enrico. Per me è un onore essere qui oggi con il professore e soprattutto introdurre questo intervento da studente di, ex studentessa di economia. Dunque iniziamo quindi questo blocco tematico con il professor Massimo Amato, professore dell'Università Bocconi, laureato in discipline economiche e sociali presso l'Università Bocconi, ha conseguito poi il dottorato e tiene corsi di storia economica e di storia e istituzioni, crisi e sistema finanziario globale. Collaboro inoltre con collane riviste filosofiche. Le sue principali aree di interesse sono la storia del pensiero economico e la storia di istituzioni monetarie e finanziarie. Proprio a riguardo di questo tema è autore di diversi saggi e pubblicazioni in cui analizza varie forme di finanza in diversi ambiti e contesti storici, soffermandosi in particolare su proposte alternative di finanza. Oggi in particolare facciamo riferimento alla sua pubblicazione Come salvare il mercato dal capitalismo, idee per un'altra finanza, scritto con Luca Fantacci e sarà proprio appunto il tema di oggi in quanto il professore parlerà di come si coniuga oggi la finanza, ovvero in termini di mercati finanziari, come in generale la finanza dovrebbe essere un modo per aiutare la crescita, mentre si sta rivelando in modo opposto, sta danneggiando in questo momento l'economia, rispetto agli altri mercati una forza preponderante andando a guidare politiche economiche, addirittura deponendo governi, andando a influenzare le scelte politiche e i diritti e i contratti sociali, come oggi si coniuga quindi la finanza nell'espressione dell'euro e quindi tutte le politiche, cioè la politica monetaria pensata a livello di Unione Europea e come secondo il professore occorre ripensare la forma, proprio la forma stessa della finanza e quindi ci esporrà la sua proposta di riforma radicale, ecco. Bene, allora lascerei a questo punto la parola al professore e iniziamo quindi l'intervento. Grazie mille, buongiorno a tutti. Si sente bene mi sembra, no? Ho un po' di eco, un po' di rimbombo ma insomma cercherò di non forzare la voce, anche perché ultimamente in questi ultimi tempi parlo parecchio e quindi ho bisogno anche di mantenerla. Tre premesse prima di iniziare il discorso vero e proprio. Il primo è che appunto questo ciclo è sugli effetti della crisi, sui problemi italiani nel contesto europeo, io mi occuperò in particolare del contesto europeo perché è dal mio punto di vista una delle origini della crisi dell'economia italiana, anche se non è l'unica causa e questo bisogna poi dirlo, cioè bisogna anche imparare a distinguere diciamo problemi specifici della storia italiana che hanno a che fare per esempio anche con le sue classi dirigenti, anche con la sua burocrazia, anche con le sue particolarità e però il fatto che l'Italia è stata penalizzata dal modo in cui l'euro è stato costruito. Questo è il primo aspetto. L'altra cosa che è stata detta è che il capitalismo è in crisi dal 2007, io qui mi sentirei di dire che il capitalismo non è in crisi dal 2007, il capitalismo è la crisi, nel senso che il capitalismo la produce la crisi. Da quando c'è il capitalismo c'è la crisi, da quando c'è la crisi c'è il capitalismo e da questo punto di vista bisogna cercare di vedere proprio nel modo di funzionamento del capitalismo la sua necessaria tendenza a produrre crisi e quindi anche imparare a difendersi dal capitalismo. Probabilmente diciamo così non noi siamo orfani di un progetto di superamento del capitalismo in nome di un'altra società, diciamo così. Noi dico noi proprio epocalmente, nel senso che siamo post sovietici tutti quanti, nel senso che un progetto di realizzazione di superamento del capitalismo si è rivelato da una parte fallimentare, dall'altra anche, diciamo così, in realtà molto più simile a ciò che voleva superare di quanto non si volesse. Resta il fatto che c'è un tema che Claudio Napoleoni aveva lungamente sottolineato ed è quello della scarsa compatibilità fra capitalismo e democrazia. In qualche modo la democrazia è costantemente in lotta quel capitalismo perché è in prova a sottrargli spazi di egemonia e di predominanza. Il capitalismo produce potentemente la crisi e questa cosa esige un pensiero difensivo dal capitalismo, innanzitutto. E come ci si difende da una pretesa globalizzante, totalizzante del capitalismo? Beh, imparando a fare delle distinzioni. Questo mi sembra il punto fondamentale. Intanto, per esempio, per ricordare il titolo del libro che ho scritto con Luca Fantacci, imparare a distinguere l'economia di mercato dal capitalismo. Il capitalismo è un'economia di mercato ma non è la economia di mercato, anzi potremmo dire che è un'economia di mercato distorta da una dimensione finanziaria che in qualche modo tende a prendere il predominio e il sopravvento. La stessa finanza esige distinzioni perché noi non abbiamo nessuna necessità di identificare la finanza con i mercati finanziari. Esiste la possibilità di pensare alla dimensione finanziaria non nella forma di un mercato ma della forma piuttosto di istituzioni che sono, come si dice e come si vuole che sia, al servizio dell'economia reale. Ma allora bisogna vedere come. E oggi proverò a farvi vedere che cosa vuol dire un sistema, delle istituzioni finanziarie che non cannibalizzano, diciamo così, l'economia reale. In particolare cercherò di farvi vedere un'altra distinzione che dal mio punto di vista è fondamentale e ci fa arrivare al punto cruciale della mia chiacchierata con voi di questa mattina che è l'euro. Allora dobbiamo imparare a distinguere fra moneta comune e moneta unica. L'euro è una moneta unica e quindi è una moneta comune, avrebbe potuto essere una moneta comune senza essere una moneta unica. Per adesso ve la do proprio come pura e semplice formula e cercheremo di capire un po' meglio di che cosa si tratta. Terza premessa che devo fare è una disclosure che io ritengo necessaria. Quando sono stato invitato e ho accettato volentieri l'invito a partecipare non sapevo ancora che sarei stato candidato alle elezioni europee, quindi per la sinistra, dove evidentemente porterò delle proposte di riforma dell'euro. Questa è la mia piattaforma elettorale e queste proposte hanno a che fare evidentemente anche con quello che vi dico oggi. Mi impegno evidentemente a non forzare la situazione e quindi con voi a lavorare scientificamente, diciamo così, questo non è un comizio insomma tanto per intenderci, ma è il tentativo di dare conto di un problema, quindi di fare una diagnosi e di proporre evidentemente anche delle terapie. Cominciamo con la diagnosi e partiamo da un fatto che è sempre più condiviso, è sempre più preoccupatamente condiviso, anche e qui bisogna sottolinearlo dal cosiddetto mainstream e diciamo dall'establishment, e il fatto è che il futuro dell'euro così com'è non è affatto scontato, cioè non è detto che possa durare così com'è. D'altronde proprio per questo bisogna vedere se non sia per caso possibile una riforma dell'euro capace di medicare letteralmente le tensioni che il modo in cui l'abbiamo concepito ha creato. L'euro è stato concepito in un modo tale da creare delle tensioni, ora la questione è, possiamo ridisegnare questo euro? Quali sono i margini per farlo? Quali sono le tensioni che ha creato? L'euro è stato creato esplicitamente, questo era proprio diciamo dichiarato da Delors e da tutti coloro Draghi, Trichet, tutti quelli che in qualche modo l'hanno costruito, per favorire, per portare a compimento un processo di integrazione, inscrivendosi in qualche modo in una continuità rispetto al progetto originario, quello diciamo che parte con gli anni 50 e che ha la prima fase, la prima fase di compimento con i trattati di Roma. Ci si è inscritti, ho voluto inscrivere in quella prospettiva. Di fatto però questo processo di integrazione che si voleva favorire ha creato, e questo lo abbiamo sotto gli occhi, dei processi di disintegrazione. Si voleva creare della convergenza e si sono create delle divergenze, a partire in particolare dalla crisi dei cosiddetti debiti sovrani, dalla cosiddetta crisi dei debiti sovrani, quella del 2010. Una prova, i mercati finanziari continuano a scontare quello che si chiama un rischio di ridenominazione, quando valutano un paese, valutano il rischio che questo paese esca dall'euro e quindi cercano di valutare gli effetti che questa uscita avrebbe sulla sua posizione finanziaria complessiva. Gli spread sono questo, sono, diciamo così, un'anticipazione, uno sconto di quello che potrebbe avvenire se l'Italia uscisse. E come spesso capita in economia, le aspettative si autorealizzano. L'anticipazione di uno spread, lo scontare il fatto che ci sia una crisi e un'uscita, rende più probabile il fatto che ci sia una crisi e un'uscita. Ma intanto, appunto, questo rischio di denominazione fotografa quantomeno l'esistenza di divergenze, perché lo spread è qualcosa che in un sistema di moneta unica non dovrebbe esserci. L'obiettivo esplicito e dichiarato della moneta unica era avere un insieme di tassi di interesse convergenti. Quindi la divergenza dei tassi di interesse sui debiti pubblici è già il segno, in qualche modo, di un processo di disintegrazione. E uno potrebbe dire, facendo il discorso che ancora un pezzo dell'establishment fa, anche se, devo dire, ultimamente i coccodrilli abbondano perché non c'è giorno in cui un pezzo dell'establishment indica abbiamo sbagliato, bisognava fare diverso. Però, diciamo, l'idea è che le cose vanno male perché i singoli paesi non si comportano in modo, come si dice, compliant, in modo adeguato, non si adeguano alla disciplina che purtuttavia avrebbero in qualche modo deciso di far funzionare aderendo ai trattati. Quindi è colpa dei paesi. Però, forse una cosa va osservata, a questo punto tutti i maggiori aderenti al progetto dell'euro sono inadempienti rispetto alle regole che ci siamo dati. L'Italia è inadempiente evidentemente rispetto al tetto del 60% del rapporto debito-PIL perché siamo a più del doppio. Ma la Francia è inadempiente rispetto al rapporto fa bisogno-PIL perché bisognerebbe stare sotto il 3% e non ci sta sistematicamente. Ci ha provato, diciamo, con Macron e sono 24 settimane che gli si fa vedere che cosa succede quando si abbassano le prestazioni sociali in Francia. Ma non è compliant neanche la Germania perché dal 2011 la procedura per i disequilibri macroeconomici ha fissato un tetto ai surplus commerciali che non devono superare il 6% del PIL e la Germania da quando c'è questo tetto lo supera costantemente. E ancora una volta, non devo dirlo solo io, basta leggere sulle 24 ore, ultimamente, un paio di settimane fa è uscito un articolo che diceva che questo è un problema, cioè non solo è una palese violazione di un impegno preso, ma è anche un problema dal punto di vista della stabilità. Perché questi surplus sono denaro non speso, poi vedremo cosa intendo dire con questo. Intanto uno potrebbe dire però continuiamo così perché tutto sommato l'Europa è in crisi ma Super Mario ci ha salvati, ha preso il bazooka, ha fatto il quantitative easing e in fondo siamo ancora qui. Bisogna però dire che l'arma, e questo lo sanno tutti gli economisti non solo eterodossi ma anche molto ortodossi, l'arma della politica monetaria è un'arma completamente spuntata, nel senso che dovesse arrivare e arriverà una nuova crisi, non sarà certo con strumenti monetari che la affronteremo. Il bazooka non ha più missili da sparare. E quindi che cosa succederà? Che se arriva la crisi ci saranno i paesi del sud, diciamo, correranno il rischio di insolvenze, default, e i paesi del nord si troveranno, diciamo così, in una situazione che gli economisti chiamano di trappola della liquidità, cioè saranno pieni di soldi ma non li useranno. E quindi avranno loro stessi dei problemi. Vi segnalo, così giusto per cominciare anche a vedere le finezze tecniche della cosa, che il fatto che i Bund tedeschi abbiano un rendimento negativo, per certi versi uno dice, beh è un vantaggio per la Germania perché di fatto si fa finanziare la riduzione del suo debito pubblico. Ma nella misura in cui i fondi pensioni tedeschi sono obbligati a detenere una quantità importante di Bund nel loro portafoglio, Bund negativi di fatto impediranno il pagamento delle pensioni, prima o poi. E come faccio a fare un piano di accumulazione che deve stare a 4% quando metto dentro asset, titoli che hanno un rendimento negativo? Come faccio a farlo? Quindi niente politiche monetarie e ancora una volta il mainstream, e qui parlo di esponenti importanti. C'è un articolo in particolare di Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Elie Larry Summers, ministro del tesoro di Bill Clinton e ex presidente della Banca Mondiale, direttore generale della Banca Mondiale, e economista di una certa importanza, che dicono in realtà per uscire da quella che loro stessi chiamano la stagnazione secolare, quindi la prospettiva di una crisi permanente e addirittura, se volete, è il loro modo per riprendere la vecchia idea marxiana del tasso di profitto decrescente, la tendenza a decrescere il tasso di profitto, dicono che bisogna fare politiche fiscali aggressive, cioè bisogna spendere, bisogna fare deficit, anche perché le condizioni per riassorbirlo ci sarebbero tutte, loro poi danno anche degli elementi tecnici per spiegare questo, ma casomai ci torniamo con le domande. Ma è proprio in questo contesto in cui la crisi sta per arrivare, la politica monetaria è spuntata, la politica fiscale è sempre più necessaria, che i vincoli imposti dall'architettura attuale dell'euro appaiono evidenti e diventano degli ostacoli. veri e propri. E nella misura in cui diventano degli ostacoli, cioè rendono difficile l'adozione concertata, cooperativa, comunitaria di politiche fiscali, rafforzano le polarizzazioni. E in questa campagna elettorale questa cosa la vediamo, evidentemente, ma non solo in questa campagna elettorale, diciamo, in questa stagione politica cosa si vede? Si vedono polarizzazioni politiche ed economiche. Delle polarizzazioni economiche, vi ho già parlato, qui abbiamo da una parte una Germania che accumula surplus in maniera squilibrata e squilibrante e non li sa, non li vuole spendere, diciamo, le due cose e non è forzata a spenderli, proprio dall'architettura dell'euro. In questo momento non c'è nulla che la forzi a rientrare da quello squilibrio. La Francia ne abbiamo parlato, l'Italia ha obiettivamente un problema col suo debito pubblico, che tende ad avvitarsi evidentemente, perché il debito pubblico alto vuol dire spread alto, spread alto significa un servizio sempre più difficile del debito pubblico e quindi un aumento del rapporto debito-pilla. Tutto questo rende evidentemente difficile che si possa convergere verso politiche di mutualizzazione del rischio. Cioè, quando i paesi hanno delle performance economiche così diverse, fanno fatica a mettersi assieme. No? E il rischio per le economie deboli è di indebolirsi ulteriormente. Quanto alle economie forti, vale la pena che lo si dica in modo chiaro. L'euro ha creato delle polarizzazioni, queste polarizzazioni hanno fatto emergere posizioni egemoniche. Quando si dice l'Europa è essenzialmente attrazione tedesca, si sta dicendo semplicemente che la Germania è in una posizione gerarchicamente egemonica. Ma io ricorderei a questo punto che la migliore cosa che si può fare con l'egemonia è esercitarla, la peggiore è non esercitarla. E il fatto che la Germania non si faccia carico della sua posizione di forza è ancora peggio del fatto che abbia ottenuto una posizione di forza. Queste polarizzazioni economiche polarizzano anche evidentemente la politica. E la crescita dei movimenti variamente ascrivibili al populismo, al sovranismo, alla richiesta di un recupero della sovranità monetaria in particolare nazionale, è facilmente spiegabile con i costi sociali degli aggiustamenti macroeconomici resi necessari dall'attuale disciplina dell'euro. E a fronte di queste spinte, diciamocelo francamente, il richiamo, il semplice richiamo a più Europa sembra del tutto veramente insufficiente. Perché finché non ci chiediamo se l'aumento di coesione all'interno di uno spazio politico comune è favorito o impedito dalle nostre architetture monetarie, non ci poniamo il vero problema. Il problema è che questo euro ci aiuta a tenere assieme lo spazio comune. Si voleva che fosse questo, ma lo sta facendo? La mia tesi è che il processo di costruzione di uno spazio comune è in realtà messo in pericolo oggi dal funzionamento della moneta unica. La questione è, esiste un'alternativa alla semplice riproposizione, alla semplice diciamo alternativa secca euro così com'è, posizione diciamo ascrivibile, semplifico, all'elite, all'establishment o uscita. Questo è anche un tema più generale, è il tema che sta travagliando la sinistra inglese, cioè stiamo con chi vuole rimanere in Europa o stiamo con chi vuole uscire? Brexitiamo o restiamo? E su questo magari mi permetto di rinviarvi un articolo che ho scritto per Open Democracy con Ann Pettifor, che è stata ai tempi consigliera piuttosto ascoltata di Corbyn e che adesso vorrebbe che Corbyn la ascoltasse ancora, diciamo così, in cui consigliavamo seriamente al Labour di, come dice Ann, rimanere, ribellarsi e riformare. Perché l'alternativa esiste e di questo vi voglio parlare, di un'alternativa che ha, diciamo, un futuro anche perché ha avuto un passato. Quindi proviamo a fare un po' di storia, no? Perché forse, lo si lamenta spesso, no? La mancata conoscenza della storia toglie anche in qualche modo, diciamo, l'apertura sul futuro. Non si riesce ad avere un futuro se non si sa da dove si viene. E noi veniamo da una storia, diciamo, dell'Europa che non è affatto una storia lineare, che conosce cesure importanti e cambiamenti di fondo importanti. Allora, partiamo appunto da un fatto che ho già accennato ma che vale la pena dirlo. Una moneta unica è necessariamente una moneta comune, una moneta comune non ha bisogno di essere una moneta unica. L'Euro, così com'è, se solo proponiamo questa questione ci appare subito sotto un'altra luce. Perché l'Euro non è affatto la prima moneta comune europea. Anzi, forse è quella che ha mostrato meno capacità di unificazione e di accomunamento. Non vi tedio con la storia medievale, ma vi ricordo che una moneta comune l'Europa l'ha avuta dall'anno 800, ad Acquisgrana, dove ultimamente si sono riuniti a firmare qualche cosa, la Merkel e Macron. Ma insomma, ci sono anche delle continuità, diciamo, nelle presidenze francesi. Ad Acquisgrana, l'anno dopo essere stato incoronato sacro romano imperatore, Carlo Magno fonda la moneta comune europea. Si chiama lira. La lira di conto. È una moneta che di fatto viene usata in tutta Europa e che con molte varianti dura per mille anni, dall'anno 800 all'anno 1800, quando viene di fatto abolita da un altro imperatore che si chiama Napoleone. Il primo ad accorgersi di questa storia fu un liberale, Luigi Inaudi, che nel 1936, in piena crisi degli anni 30, dice, beh, tutto sommato questa moneta non era così male. Ed era una moneta comune. Comune nel senso che tutti contavano con quella moneta, ma ognuno emetteva la sua, emetteva le sue monete reali. Quindi c'era, diciamo così, la possibilità di articolare uno spazio comune con delle specificità locali. Ma lasciamo correre. Parliamo di una moneta comune più vicina. 1950. Quindi 1150 anni dopo, 1149 anni dopo quella di Carlo Magno. In un'Europa che comincia già a volersi unificare, anche perché adesso è l'Europa che ce lo chiede. Allora erano gli Stati Uniti che lo chiedevano all'Europa di unificarsi. Non dimentichiamo, cioè il piano Marshall è, diciamo, un piano di aiuti che gli Stati Uniti fanno per l'Europa a patto che l'Europa questi aiuti li accetti in maniera cooperativa. Cioè non sono aiuti ai singoli paesi, ma ai singoli paesi riuniti in un'associazione cooperativa, quella che poi diventerà l'Oxe. Siamo in questa situazione, il piano Marshall stenta di fatto a partire e quello che fa ripartire l'Europa è un'unione europea dei pagamenti. Diciamo, tema abbastanza esoterico perché pochi pochi lo sanno. I miei studenti sì perché faccio una capatanta su questa cosa, nei miei libri su questa cosa insisto, ma mi è capitato di fare una conferenza sulla base di queste stesse note recentemente a Mosca, dove però c'era un personaggio abbastanza importante della Banca Centrale Europea che mi ha ascoltato con interesse e alla fine mi ha detto, bella questa cosa, non ne sapevo niente. Non è male, eh? Non ne sapevo niente. E invece vale la pena saperlo perché è una delle poche storie di successo della comunità europea. Un'unione europea dei pagamenti, potremmo dire, un'unione europea fatta attraverso il fatto che si mettono assieme i pagamenti e che si paga, che tutti pagano. Vi do intanto qualche piccolo risultato. EPU, European Payments Union, quindi noi la chiamiamo UEP. Che cosa accade in questi, dura otto anni, dal 50 al 58. In questi otto anni ci sono dentro i miracoli economici italiano e tedesco. Cioè si esce dalla crisi post bellica, si riassorbe la disoccupazione, si comincia a riassorbire la disoccupazione. Nel 58 in Italia c'è ancora la disoccupazione, ma l'Italia arriva alla piena occupazione nel 64, sull'onda anche di questa industrializzazione. Negli anni 50 l'Italia smette di essere un'economia a base rurale, diventa un'economia effettivamente industriale, con i fenomeni migratori interni che conosciamo. Beh, quello che succede è che in questi anni il commercio fra paesi europei raddoppia. E mentre raddoppia fra paesi europei, triplica nei confronti degli Stati Uniti. Cioè nel senso che cominciamo a diventare un partner che dagli Stati Uniti non riceve più aiuti, ma fa scambi. Smettiamo di essere il partner africano, se mi consentite, dei vincitori, quello che deve essere aiutato con i piani umanitari, perché questo è il piano Marshall all'inizio. Letteralmente diamo agli europei cibo perché mangino, perché non muoiano di farne. Ecco, quindi aiuti umanitari. Questo piano aiuti umanitari crea invece una situazione molto più paritaria che quella dello scambio internazionale. Non solo, ma tutto questo si fa con un riassorbimento di 10 milioni di unità di disoccupazione. Cioè l'occupazione aumenta di 10 milioni di unità in tutta Europa. E le economie si avviano verso la piena occupazione, che è il dato fondamentale dell'economia europea verso la metà degli anni 60. E quindi quando nel 57 si firmano i trattati di Roma, questi trattati vengono firmati da nazioni che innanzitutto sono in ripresa, che sono su un piede di parità. Non ci sono debitori e creditori. Vedremo perché non ci sono debitori e creditori. Sono nazioni che commerciano fra di loro, ma in un regime di sostanziale parità delle bilance commerciali. Ed è proprio così che si può creare uno spazio europeo comune. Ricordo, peraltro, a proposito di discontinuità, che i trattati di Roma cominciano a parlare di libertà di movimento, di che cosa? Delle persone, evidentemente, delle merci, evidentemente, ma non dei capitali. I capitali, si dice, si muovono nella misura in cui servono a sostenere il movimento delle merci, cioè il commercio. Non c'è una dimensione autonoma della finanza. Quindi quando ci si appella a un processo, e si immagina il processo di integrazione europea come un processo uniforme, che va univocamente nella medesima direzione, si commette proprio un errore storico. In quel momento storico la convergenza non ha affatto preso la forma di una uniformazione. Perché questi sono i criteri di convergenza. Dobbiamo essere tutti uguali. Ma piuttosto di un processo di pacificazione, dobbiamo pagarci gli uni gli altri. Pagare e far la pace sono letteralmente la stessa parola. E quindi si apre veramente uno spazio comune per nazioni diverse. Gli Stati Uniti hanno questo motto, United we stay, stiamo uniti. Noi potremmo e dovremmo, forse come europei, avere un motto che potrebbe suonare United we differ. Uniti, differiamo, siamo differenti nell'unità. Questa differenza dell'Europa, come si dice spesso anche in maniera molto retorica, è letteralmente la sua ricchezza. Una ricchezza magari pericolosa, difficile da gestire, ma è la sua ricchezza. Che è una ricchezza economica, linguistica, culturale. Un greco non ha bisogno di diventare come un tedesco. Ha bisogno di essere greco all'altezza della sua popolarità, come avrebbe detto Kant. E quindi che cosa è questa benedetta Unione Europea di Pagamenti? Come funziona? Qui bisogna che vi faccia un po', diciamo, di tecnicalità. È una camera di compensazione. Ok? È un sistema di pagamento multilaterale, questo è l'altro aspetto. E come dice il suo primo direttore generale, il suo direttore generale per questi otto anni, Guido Carli, che poi fece la carriera che fece, l'Unione Europea dei Pagamenti, dice lui, fu il primo sistema monetario internazionale a funzionare effettivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Addirittura prima che funzionasse il sistema di Bretton Woods, che di fatto entra in funzione nel 1958, quando smette di funzionare l'Unione Europea dei Pagamenti. E fu la prima istituzione operativa incaricata di promuovere l'integrazione economica dell'Europa occidentale. Quindi la mission era chiara e questa mission è stata accomplished, perché non era impossible ma proprio per nulla. E perché non era impossible? Perché si è passati attraverso una camera di compensazione. Allora, qui magari ve la faccio vedere, perché questa idea della camera di compensazione è ripresa da un economista che voi tutti credo conoscete, e comunque se non conoscete bisogna che si conosca, che è John Maynard Keynes, che dopo aver scritto negli anni 30 un trattato fondamentale che di fatto inaugura la moderna macroeconomia, la teoria generale dell'occupazione dell'interesse della moneta, nel 44, nel 41 anzi è incaricato al governo inglese di preparare un piano di riforma del sistema monetario internazionale, perché si dice quando finirà questa maledetta guerra, che vorremmo anche vincere, bisognerà dare al mondo un nuovo ordine. E Keynes dice sì, bisogna darlo cooperativo quest'ordine, bisogna smettere di utilizzare il commercio in maniera mercantilistica, per impoverire il proprio vicino. Bisogna fare in modo che il commercio non sia una corsa disperata ad accumulare surplus a danni dei deficit degli altri. Questo ricordiamolo, la contabilità non è un'opinione, se io ho un surplus è perché qualcuno ha un deficit. È inutile che lo rimproveri, dicendo fai come me, perché non tutti possiamo avere un surplus. A meno che, come dice mio amico Danilo Barbie, non cominciamo a esportare su Marte. L'unica posizione economicamente sensata, soprattutto nel commercio internazionale, è l'equilibrio, cioè né surplus né deficit. E rispetto a questa esigenza di stabilità, prima ancora che di crescita, surplus e deficit sono squilibri. Questo è il senso anche della procedura per gli squilibri macroeconomici che ha sanzionato i surplus, l'eccesso di surplus. Vedete? Tutto sommato, anche nella difficoltosa gestione dell'Unione Europea così com'è, qualche barlume di teoria economica c'è. Sana. Ok? Come funziona? Spero che si veda, eh? Una camera di compensazione. Facciamo un esempio molto semplice con tre nazioni. Queste tre nazioni le rappresentiamo, però non si vede niente. Questo è il dramma. Ma proprio niente. E come facciamo qui? Perché è giallo, io non riesco... Non c'è una lavagna? No. Forse bisognerebbe... Sì, scusate, perché è un errore mio, nel senso che avrei dovuto fare tutto in nero, però non so come fare. Non riuscite da vedere, eh? Perché qui... Intravedete questi segni che sono i segni del bilancio? No? Immaginavo. Come si può fare? Si comincia a vedere un po' meglio? No? 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 È il proiettore, eh? E come... Questo avete? Allora, facciamo un esempio più semplice, senza bisogno di fare, vedere i mastrini, tanto non siamo una lezione di economia. Ragioniamo... Ho bisogno di un altro volontario. Può venire lei, per favore, così almeno facciamo direttamente... No? Noi siamo tre nazioni. No? E ci accordiamo per aderire, per aprire un conto corrente in una banca comune che si chiama Unione Europea dei pagamenti. In questo conto non depositiamo niente. E da questo conto non preleviamo niente. Questo conto serve semplicemente, come spesso capita, per registrare posizioni attive e posizioni passive. Compro e avrò un meno nella casella del dare, evidentemente. Perché ho comprato per cento, diciamo cento dollari, che è l'unità di conto in questo caso. Avrò meno cento dollari, ho un debito di cento dollari. Sul mio conto corrente appare meno cento. Siccome ho comprato da lui, sul suo conto corrente appariranno più cento. Ok? Il nostro rapporto è bilaterale. Io ho comprato da lui, lui ha venduto a me, io sono debitore suo, in teoria. Ma siccome siamo una camera di compensazione, siamo in un'Unione Europea dei pagamenti, noi possiamo rendere multilaterale questo rapporto che è nato bilaterale. Cosa vuol dire questo? Che questi cento dollari che lui ha sul conto perché ha venduto a me, e che sono stati generati dal mio debito, per certi versi. Io ho un debito di cento perché, lui ha un credito di cento perché io ho un debito di cento. Ma, diciamo, e lui, io devo ringraziare lui perché mi ha fatto credito. Ma lui deve ringraziare me perché gli ho comprato qualcosa che altrimenti non avrebbe potuto vendere. Questo ricordiamoci. Quindi c'è già un aspetto di cooperazione. In tutto questo, che cosa accade? Accade che la camera di compensazione rende possibile il fatto che i suoi cento, il suo attivo di cento, lui lo possa spendere comprando da lei. Quindi, diciamo, il suo credito lo esercita comprando a sua volta. Quindi c'è un trasferimento di credito. Lui a questo punto ha venduto per cento, ha comprato per cento e è tornato a zero. Io sono ancora meno cento, lei finalmente ha più cento. Semplifichiamo l'esempio, ma avete capito come finisce la bella storia. Lei compra da me per cento. E abbiamo fatto commercio internazionale per trecento, quindi trecento dollari di beni sono stati prodotti e venduti, perché sapete, produrre senza vendere non piace a nessuno. Ok? Prodotti e venduti, senza che ci fosse bisogno di altro che di un credito fra di noi. Cioè del fatto che ci davamo credito gli uni gli altri, senza bisogno di una moneta, senza bisogno di anticipare moneta. Quindi è un sistema di pagamento. Ognuno paga vendendo e ognuno, e questo vuol dire che gli altri, diciamo, possono decumulare i loro attivi comprando. Se tutti giocano questo gioco, il commercio cresce. Anche, e poco importa chi inizia, chiunque può iniziare, perché comunque il gioco è fatto per essere chiuso. Cioè alla fine siamo nella stessa posizione dell'inizio. Avevamo zero nel nostro conto corrente, continuiamo ad avere zero moneta, ma abbiamo tutti i beni che prima non avevamo. Non so se sono stato chiaro. Però questa è l'idea. È un modo di pagarsi. Invece di tirare fuori la moneta, segniamo debiti e crediti e usiamo i crediti come moneta. Ma li usiamo, perché se lei per caso in un impeto da formica decidesse che lei i soldi che ha guadagnato se li tiene, evidentemente il mio debito non sarebbe pagabile. Vedete? Quindi la pressione potrebbe arrivare proprio da un creditore che non si disfa del suo credito. Questa è l'idea fondamentale di Keynes. Keynes dice in un sistema veramente cooperativo ci sono due obblighi simmetrici, non uguali ma simmetrici. L'obbligo del debitore che è evidentemente quello di pagare i suoi debiti. Nessuno si può indebitare dicendo ti pago domani. Quello lo può fare Totò. Ma bisogna che un giorno o l'altro i debiti vengano pagati. E questo è un obbligo che conosciamo molto bene, sanzionato dal tasso di interesse negativo, dal tasso di interesse sui debiti, che ci ricorda che più tempo passa più dobbiamo in qualche modo. Ma c'è un obbligo del creditore, di cui Keynes parla esplicitamente, e che consiste nel disfarsi del suo credito. Perché altrimenti il creditore mette una pressione deflattiva sull'intero sistema che alla fine si ritorce contro di lui. Perché se lei, appunto, la formicuzza, scusa, eh, ma devo dire, non spende, io, che non sono affatto una cicala, sono semplicemente uno che sta aspettando di vendere, non vendo e quindi fallisco. E allora a quel punto l'altro, lui, non mi venderà più niente. E avremmo instaurato una spirale negativa di, diciamo, riduzione di potenzialità. Cioè, quello che avremmo potuto fare se tutti avessimo giocato il gioco non lo facciamo più. E alla fine anche la famosa formica non vende più. Con un'immagine si chiama segare il ramo su cui si è seduti. Insomma, tanto per intenderci, no? Voglio dire. E questo è esattamente, diciamo, la posizione miope della Germania in questo momento. E ne abbiamo già tutti gli effetti. Perché quando è scoppiata la crisi nel 2010, questo è successo, sono esplose, si è rivelato, meglio ancora, una divergenza delle bilanze dei pagamenti, tale per cui, in assenza di movimenti di capitali, i capitali hanno smesso di circolare e di finanziare questi deficit, si è chiesta la disciplina, si è chiesta l'austerità. Pagate. Improvvisamente bisognava pagare. E come si fa a pagare? Bisogna stringere la cinghia, si è detto. Fate sacrifici. Fate sacrifici. Certo, ne abbiamo fatti i sacrifici. Volenti o nolenti sono stati fatti questi sacrifici. In Grecia sono stati sacrifici umani. Diciamocelo francamente. umani. E parlo proprio del fatto, in cui in questi giorni si parla molto, dell'aumento del tasso di mortalità dei bambini. Che è indubbiamente legato alla riduzione drastica delle spese sociali in Grecia. Che è stata imposta come via per il risanamento dei conti. tu risani i conti e ammazzi i bambini. Benissimo. Ok? E in che situazione? L'abbiamo fatto questo risanamento? Perché adesso, diciamo, di deficit dei bilanci commerciali non ce n'è più in giro. Siamo tutti più o meno inattivo. Inattivo oltretutto nei confronti evidentemente del resto del mondo. L'Europa che era in pareggio rispetto al resto del mondo e quindi era autarchica, nel senso aristotelico di autosufficiente, adesso si trova a dipendere da una domanda che non controlla. Perché se per caso ci fosse una crisi in Cina, questa Europa avrebbe dei problemi. Ma non solo abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto questo a prezzo di una riduzione di potenzialità di occupazione e di produzione all'interno. Abbiamo ridotto il mercato interno. Abbiamo creato letteralmente un equilibrio di sottocupazione. Questo vuol dire non giocare il gioco dell'Unione Europea dei pagamenti, della Camera di compensazione, della multilateralità. E quindi voi capite bene che quel gioco lì valeva la pena di essere giocato e quando è stato giocato ha reso possibile un balzo in avanti nella unificazione europea, nella pacificazione europea. È chiaro che tutte le frasi ripetute a ritornello diventano retoriche, no? L'Europa è bella perché ci ha dato la pace, ci ha dato la pace, ci ha dato la pace. Benissimo. L'Europa si è data la pace contro se stessa, si è autodifesa da se stessa, si è difesa dalla sua tendenza storica nella prima parte del ventesimo secolo ad autodistruggersi. Ed è indubbio che, diciamo, in questo caso il commercio abbia pacificato. Allora però dobbiamo anche dirci, avendo smesso di giocare questo gioco della multilateralità, avendo cominciato a imporci delle discipline assurde, questa Europa è sempre meno in pace. Perché non si riesce a pagare, perché non si riesce a giocare il gioco economico. Torniamo però alla clearing union, per dare qualche elemento concreto. Una clearing union è, avrete capito, una banca. Ho parlato di conti correnti, non ho parlato di depositi, ma evidentemente ho implicitamente parlato di fidi, di concessioni, di apertura di credito. Perché io posso scrivere meno 100 quando compro? Perché la banca mi ha fatto un fido, mi ha detto tu fino a una certa quota puoi stare sotto. Che è esattamente quello che fa una banca, senza bisogno di avere depositi. Le banche creano moneta. E questo è molto bene che lo facciano. Quello che non è bene è che poi non la distruggono e non la fanno circolare, ma voglio dire, la banca ha questa grande capacità di metterti a disposizione un potere d'acquisto prima che tu abbia fatto qualunque cosa. E perché il circuito economico inizi? La moneta viene dal nulla. L'importante è che ci torni, l'importante è che non venga accumulata, l'importante è che non venga, diciamo, considerata una cosa. Se è nulla non è una cosa e se non è una cosa non la posso tenere. Devo farla circolare. Quindi è una banca che fa dei fidi agli stati, diciamo così, che fa delle, tecnicamente si chiamano overdraft facilities, cioè diritti di sconfinamento, autorizzazione di scoperto. A degli stati, non le fa arbitrariamente, li fa sulla base di quote che sono fissate sulla base della capacità commerciale dello Stato in questione. Io prendo una media mobile del commercio, così si è fatto. Quanto commerciavo prima della guerra? Su cinque anni. Tot. Sommo importazione e esportazione divido per due e quella è la quota. Quindi ti faccio scendere fino a questo livello. Ok? E ti faccio salire fino a questo livello. Ok? E quindi, questa è la cosa importante, queste aperture di credito esigono solo moneta scritturale. Quello di cui abbiamo bisogno è un'unità di conto. Non abbiamo bisogno di altro. Se l'euro fosse un'unità di conto in una camera di compensazione, non avrebbe bisogno, non potrebbe, sarebbe un altro euro, diciamola così, poi entreremo più nei dettagli. E che cosa rende possibile questa banca? L'abbiamo detto, la multilateralità. Quindi io, la mia capacità di ripagare i debiti che ho, che sono i crediti che mi ha fatto la banca, questo meno che ho davanti, non ce l'ho col mio partner commerciale con cui ho iniziato il rapporto. Ho importato dalla Francia, non ho un debito con la Francia, ho un debito con l'insieme dei paesi che aderiscono. E quindi la mia capacità di ripagamento del debito non è la mia capacità di esportare in Francia, ma la capacità di esportare in Europa, che ovviamente è più ampia. Ok? E questo consente evidentemente di sfruttare i vantaggi, quelli che Riccardo chiama i vantaggi comparati, cioè consente una specializzazione delle produzioni e quindi anche un aumento dell'efficienza, che è tutto quello che è in qualche modo registrato da quel pannello precedente, che è veramente come il bollettino della vittoria di Diaz, qui non ci sono che dati positivi. Siamo cresciuti nel commercio interno, siamo cresciuti nell'occupazione, siamo cresciuti nel commercio con gli Stati Uniti, siamo cresciuti, stiamo bene e in effetti questo è, no? Fra 50 e 58 l'Europa comincia a rinascere, l'ascensore sociale funziona, la disoccupazione viene ridotta, la tecnologia fa balzi in avanti, insomma voglio dire, sono gli anni che vengono poi ricordati come l'inizio dei 30 gloriosi, che non sono proprio tutti così gloriosi, voglio dire ci sono anche lotte di classe, ci sono tensioni, tutto quello che volete, però diciamo sono anni in cui, diciamolo in maniera molto semplice ed esistenziale, i genitori possono pensare che i figli avranno un futuro migliore del loro. E questo commercio cresce in equilibrio, cioè alla fine di questo giro, di questo round di otto anni, non ci sono solo strutturali e debiti strutturali. Tutti i paesi sono più o meno in equilibrio, le bilanci commerciali sono in equilibrio, quindi non solo c'è crescita, ma c'è crescita equilibrata, esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Ma la cosa da vedere, è semplicemente un passo ulteriore, se l'Unione Europea dei pagamenti è una banca, vuol dire che in realtà non è semplicemente un modo di pagarsi, ma è un modo di finanziarsi. Questo è un sistema finanziario che non passa per i mercati. La mia quota di sconfinamento non la compro, mi viene concessa da un banchiere evidentemente benevolo, perché ha a cuore diciamo lo sviluppo di tutta l'area, e mi viene concessa sulla base di una mia capacità effettiva di ripagamento. Ma non vengo strozzato, non mi si chiedono collaterali. Il mio collaterale è la mia esistenza all'interno di questa comunità, che è tanto più ricca quanto più ci sono anch'io. Le comunità sono fatte da coloro che le fanno, voglio dire, non è che siano delle entità indipendenti. Quindi l'Unione Europea dei pagamenti è un sistema finanziario, che rende, e questo è un passo ulteriore che vorrei farvi fare, poi chiudiamo la parte diciamo più strettamente tecnica, che rende non necessari i movimenti di capitale, cioè rende non necessari i mercati finanziari. Perché? I mercati, diciamo, i movimenti di capitale e di portafoglio, diciamo così, non gli investimenti diretti, ma i movimenti di capitale e di portafoglio, cioè il fatto che dei soldi che sono in Germania finiscano per acquistare delle obbligazioni di banche italiane, per dire. Nascono dal fatto che da una parte questi soldi la Germania ce l'ha, e perché ce l'ha? Perché c'è un surplus, e che l'Italia di questi soldi ha bisogno perché? Perché c'è un deficit. Nella misura in cui io riduco strutturalmente la possibilità di surplus e di deficit, riduco letteralmente il margine, non solo il margine di gioco, ma la necessità di questi finanziamenti. Non so se la vedete la cosa. Se tutti siamo a zero, io non ho soldi da chiedere a prestito e tu non hai soldi da prestarmi. E ci siamo finanziati come? Semplicemente facendoci credito, cioè credendo l'uno all'altro. Questo, voglio dire, vale la pena che ce lo ricordiamo, che la parola credito ha a che fare essenzialmente con la concessione di una fiducia. La crisi dell'Europa è una crisi di fiducia dei suoi membri nei confronti l'uno dell'altro. Qui non ci si fida più di nessuno. E c'è gente che, questo io lo dico francamente, c'è gente che mesta nel torbido su questa cosa, evocando demoni nazionalistici che bisogna veramente stare attenti a evocare. E vedo bene la differenza fra invece il recupero di margini di azione nazionale rispetto al discorso nazionalistico. La vedo bene la differenza, ma vedo anche una tendenza a far convergere gli uni sugli altri. Se tutti convergono verso l'equilibrio, non ci sono surplus, scusate, deficit da finanziare e non ci sono surplus che li finanziano. È un puro fatto contabile. Provate a fare un esercizio e vedete, se io non ho bisogno di soldi non li chiedo, se non ho soldi non li posso prestare. E quando è che non ho soldi? Quando sono in equilibrio, quando con i miei soldi li ho spesi comprando e ho comprato perché ho venduto. La vedete la cosa? Questo era l'obiettivo dichiarato di Keynes quando questa stessa proposta la fa al mondo intero, non all'Europa. Dice perché non ci organizziamo così, così magari la smettiamo di fare la guerra. Dice letteralmente quello che vi sto proponendo è un sistema per il disarmo finanziario. Altro che disarmo militare, disarmo finanziario. Dobbiamo smettere di usare la finanza come una clava dei creditori contro i debitori. E cosa dice? Questo nel 43, in uno dei documenti preparatori che Luca Fantacci, che è stato già citato, ha edito in italiano per il saggiatore e vi consiglio di leggere. Si chiama La moneta internazionale, John Minor Keynes. La moneta internazionale è un'operazione, diciamo, culturale di Luca Fantacci che non ha uguali neanche in inglese, nel senso che Luca ha preso dei testi editi di Keynes, ben inteso, ma che sono sparsi nella sua opera omnia e ha fatto una sorta di testo unico, se volete, in cui ha ricostruito, diciamo, la genesi del progetto della International Clearing Union di Keynes. Beh, nel 43, in una delle versioni già avanzate, diciamo, di presentazione del progetto, Keynes dice, bisogna costruire un sistema dotato di un meccanismo interno di stabilizzazione, con il quale si esercita pressione su ogni paese, la cui bilancia dei pagamenti con il resto del mondo, in quel caso, qui dovremmo dire per noi con il resto dell'Europa, è, si allontana dall'equilibrio in entrambe le direzioni. Keynes ricorda questa cosa banale, se l'equilibrio è zero, meno e più di zero sono disequilibrio. Non c'è una scala, una scala verso il cielo, non è che il debitore è brutto e cattivo, quello in equilibrio mediocre e quello in surplus è un semidio. No, surplus e deficit sono squilibri. Quindi, un sistema che sanzioni il departing, come dice lui, l'allontanamento dall'equilibrio in entrambe le direzioni, in modo da prevenire movimenti che necessariamente creano nei suoi vicini un difetto di equilibrio opposto. Se io ho un surplus ti condanno al deficit, se ho un deficit ti condanno al surplus, voglio dire. Ci condanniamo entrambi a una posizione che per entrambi non è favorevole. E questo che cosa, questo era tecnico, adesso proviamo a dire qualcosa, diciamo, di altrettanto tecnico ma che in qualche modo ha a che fare con il dibattito attuale. Questo modo di concepire i rapporti internazionali e i pagamenti internazionali, che riduce in qualche modo la presenza di squilibri, riduce il peso di quello che si chiama il vincolo esterno. Mi spiego meglio. Che cosa si dice quando si dice bisogna fare disciplina? Voi avete delle posizioni squilibrate, dovete ridurle agendo sulle vostre economie. Avete un debito, dovete fare deflazione, dovete abbassare i salari, dovete fare le riforme, eccetera, eccetera. È chiaro che nella misura in cui, diciamo, questi squilibri non sono strutturali, il vincolo esterno non esiste, o comunque è meno forte. Ok? E quindi che cosa si guadagna? Beh, autonomia delle politiche fiscali interne. La vedete la cosa? Cioè, senza rinunciare ai benefici del commercio internazionale, si mantiene la propria autonomia. Questo è l'effetto, diciamo, estremamente positivo di questi meccanismi che Aristotele aveva visto da 2500 anni prima che si inventasse l'Unione Europea dei pagamenti. Aristotele nella politica dice una polis, quindi uno Stato, è veramente libero quando è autosufficiente. Autarchia, no? Autarchia, dice Aristotele, che non è l'autarchia dei Mussolini evidentemente, non è la chiusura, è il fatto che io basto a me stesso. E dice, quando tutti bastano a loro stessi, il commercio internazionale è, e lo dico letteralmente, la ciliegina sulla torta. È grasso che cola. È un surplus che ci distribuiamo. Ma rimanendo autonomi, non, diciamo, cercando di arricchirci a spese degli altri. Perché questo vuol dire accumulare surplus a spese dei deficit altui, arricchirsi a spese degli altri. Si chiama mercantilismo, non si chiama liberalismo. Perché ancora una volta, no? C'era la vecchia frase di Pisanò, no? A proposito di Mancini, si scrive leader ma si legge ladder, no? E qui si scrive liberalismo ma si pronuncia mercantilismo. Quello che è praticato in Europa è un mercantilismo. E quello che è stato, diciamo così, diffuso a causa anche delle pressioni tedesche è un adeguamento di tutti gli stati europei a logiche mercantilistiche. Tutti devono fare surplus. Ma questo è il tratto profondamente guerra fondaio di questa organizzazione. Cioè quando c'è mercantilismo ci sono guerre commerciali. Quando ci sono le guerre commerciali prima o poi arrivano anche altre guerre. Prospettiva che non possiamo escludere. anche se evidentemente dobbiamo lavorare per scongiurare. Ma non possiamo escluderla. Ma che cosa vuol dire che c'è un'autonomia delle politiche nazionali? Che è esattamente il tratto che caratterizza la grande stagione del costruzione del welfare europeo. È la costruzione del welfare state. È la costruzione di sistemi educativi per tutti. Che sono non solo il motore dell'ascensore sociale. Cioè il fatto che i figli degli operai possano andare all'università e diventare professori. Sperando che poi quando sono diventati professori non inventino dei modelli economici che impediscono il proseguimento della... No, vabbè. Ma diciamo, modelli di costruzione del sistema educativo, modelli di costruzione della sanità pubblica, ammortizzatori sociali. Cioè tutti elementi che in realtà, e anche qui non lo dice Marx, non lo dice Keynes, lo dice Romer, premio Nobel del 2018, costituiscono una parte fondamentale nella formazione del capitale umano di una nazione. Cioè non è che queste spese siano un lusso che ci possiamo permettere. Sono assolutamente necessarie perché la sfida della produttività possa essere vinta. Non possiamo avere, diciamo, una nazione che funziona se le scuole non funzionano. E i vent'anni di tagli alla spesa pubblica in Italia, non ultimo quello di questo governo, toccano evidentemente sanità, istruzione, ed è lì che si tocca. Come se questi fossero appunto dei benefici collaterali di cui si può anche fare a meno. In realtà senza, diciamo, politiche fiscali espansive non si mantiene la coesione sociale. Questo è il punto. La dico un po' velocemente ma mi sembra che si possa dire. Bene. E adesso che ho finito di raccontarvi una storia edificante vi devo raccontare una storia disedificante perché uno dice funzionava così bene perché non abbiamo continuato. Perché addirittura i banchieri centrali europei non sanno più neanche che esisteva sta cosa? Non ve lo dico. Non ve lo dico perché ci porterebbe troppo lontano ma potremmo dire sostanzialmente perché c'era da integrare l'Europa in un sistema monetario che si chiama sistema di Bretton Woods che è attrazione americana in cui gli americani hanno un esorbitante vantaggio che è quello di pagare i propri debiti stampando moneta, diciamo così. E' questo che fanno, no? Il fatto di avere una moneta nazionale che funziona come moneta internazionale consente agli Stati Uniti evidentemente di non avere un problema di carico debitorio. Cioè i debiti li pago semplicemente stampando la mia moneta nazionale, i miei debiti internazionali. Lì iniziano gli squilibri globali, cioè da lì, dal 58, la posizione americana comincia a diventare una posizione debitoria stabile. Voi sapete che gli americani sono il più grande debitore mondiale. Non ce ne accorgiamo perché sono anche il detentore, tutto sommato ancora, della moneta internazionale, cioè del privilegio di avere moneta internazionale. Quindi è chiaro che si deve andare lì. E in Europa ci si accoda sostanzialmente a questo progetto. Quando il progetto fallisce nel 71 con Nixon e con la sospensione della convertibilità del dollaro, inizia una fase per cui in Europa prima il serpente, poi si cerca di andare verso forme, diciamo, di coordinamento dei tassi di cambi europei nei confronti del dollaro, ma si comincia a partire dal rapporto Werner a parlare di una moneta comune europea. A questo punto si dice che l'Europa si è costituita, bisogna che ci sia una moneta comune. Ma appunto, ancora una volta, nei primi rapporti l'aggettivo è comune, non è unica. Su questo insisterei perché c'è anche, diciamo così, una sorta di lingua ufficiale, di nuova lingua, diciamo, dell'Unione Europea per cui le cose non vengono chiamate sempre necessariamente col loro nome. Ma in quei rapporti la moneta è ancora una moneta comune. Un passaggio fondamentale è la costituzione della European Currency Unit, l'unità monetaria europea. European Currency Unit, acronimo EQ, qualcuno di voi l'avrà sentito parlare, e ancora una volta, acronimo non scelto a caso perché EQ, scudo, era il nome di una moneta che nel ben mezzo del Rinascimento veniva usata dai mercanti banchieri italiani per gestire il commercio internazionale, sulla base di una camera di compensazione, anche lì. Quando le cose vanno bene, e il Rinascimento è un momento in cui le cose vanno bene, diciamo così, si chiama Rinascimento, insomma, c'è un motivo, ci sono delle camere di compensazione. Ma appunto, che cosa si sarebbe potuto fare? Qui accelero un po'. Una volta costituito l'EQ, ci si sarebbe potuti ricordare della Unione Europea dei pagamenti e fare dell'EQ l'unità di conto di una nuova Unione Europea dei pagamenti. Questo sarebbe stato possibile. Che cosa avrebbe portato questo? Alla costituzione di una moneta comune europea di conto, EQ, euro, chiamatelo come volete, l'importante è che sia di conto, e al mantenimento delle monete nazionali. La moneta di conto avrebbe regolato i rapporti di scambio internazionale dei paesi costituenti l'Unione, che diciamo così avrebbero aggiunto su un piano di parità commutativa, cioè quando si scambia si è tutti uguali, ma quando si è a casa propria si è anche diversi, e quindi avrebbero mantenuto anche un'autonomia delle politiche nazionali, una politica, un'autonomia anche rispetto all'insieme, che sarebbe stata, come dire, siglata da un tasso di cambio delle singole monete nazionali con l'EQ, che avrebbe potuto essere anche regolato, nel senso che a fronte di squilibri che avessero potuto insorgere si sarebbe potuto immaginare di fare delle svalutazioni e delle rivalutazioni. Ancora una volta, questo Keynes l'aveva ben previsto, quando immagina la International Clearing Union in cui c'è dentro tutto, tranne Marte appunto, non sta pensando che tutti useranno la stessa moneta, non sta pensando a una moneta unica, sta pensando a un'unità di conto per il commercio internazionale che avrà un tasso di cambio con le singole valute nazionali, evidentemente. E questo tasso di cambio non è un tasso di cambio fisso, immutabile, non è un tasso di cambio fluttuante, che dipende dai andamenti del mercato, è un tasso di cambio aggiustabile. Aggiustabile quando? Quando gli squilibri si fanno strutturali. Perché se io, nonostante tutte la mia buona volontà, non riesco a spendere la mia moneta che ho accumulato, diciamo i miei bancor che ho accumulato, vuol dire che la mia moneta è sottovalutata. Bisogna che abbia un potere d'acquisto internazionale maggiore perché io posso acquistare qualcosa a un prezzo che a quel punto mi conviene. Ma questo vuole anche dire che la mia moneta viene rivalutata e la mia economia perde competitività di modo tale che, diciamo, quel vantaggio eccessivo che ho avuto è che è misurato dal surplus. Il surplus misura il fatto che il tasso di cambio non era giusto. Quando c'è un surplus stabile vuol dire che il tasso di cambio non è giusto. E quindi, siccome il tasso di cambio è un prezzo, non lo cambiamo tutti i giorni, ma deve arrivare un momento in cui lo cambiamo. E lo cambiamo in maniera simmetrica. Rivalutiamo l'economia in surplus, svalutiamo l'economia in deficit. E non sono svalutazioni competitive. Anche questo, a proposito di veramente nuova lingua, la svalutazione è competitiva quando viene fatta da uno Stato che è in surplus. Lì sì che è competitiva perché è quello che rimproveriamo alla Cina. E i Cina sono cattivi perché tengono sottovalutato lo yuan. E l'euro che cosa ha fatto, almeno negli ultimi 5-6 anni, complice anche il quantitative easing, è stato tenuto artificialmente basso. E questo spiega il surplus europeo nei confronti del resto del mondo. Bene, tutto questo però finisce perché a un certo punto, io adesso vi leggo una bella frasetta a proposito di nuova lingua, di un documento ufficiale dell'Unione Europea, se lo trovo, datemi solo un attimo di tempo, ma lo trovo. Eccolo qua. Beh, innanzitutto ricordiamoci che nel 1989 Jacques Delors pubblica il suo rapporto, perché è comunque incaricato di lavorare alla costruzione di una moneta comune, ma il rapporto che, diciamo in qualche modo, il documento che volgarizza questo rapporto dell'anno dopo si chiama One Market, One Money. Un mercato, una moneta. Ah, in folk? No, adesso non esageriamo. Una moneta, un mercato. E appunto una pubblicazione, che continuo a non trovare, ma ve la cito a memoria, del 2007, ufficiale, ma poi vi darò l'indicazione, dice questo è quello che abbiamo sempre voluto fare, cioè fin dai trattati di Roma, quello che l'Europa ha chiesto a gran voce a se stessa è la costruzione di una moneta unica. Ecco, ancora una volta la moneta unica non è affatto un processo uniforme, diciamo così, continuo, conosce delle discontinuità profonde, così come conosciamo delle discontinuità profonde nel processo di integrazione dei paesi nell'Europa, perché, diciamo, l'Europa dei dodici non è l'Europa dei ventotto. Dopo la caduta del muro, la velocità e l'ingordigia forse anche con cui si è accettata, diciamo, l'immissione di economie, di paesi, di nazioni che erano appena uscite dal gioco comunista, diciamolo francamente, dal gioco sovietico, è stata fatta forse senza guardare bene alle compatibilità. E comunque qualcosa gli è cambiato, diciamo così. Ma ancora una volta, proviamo a vedere questa formula, una moneta un mercato, un mercato una moneta. Un conto è leggere questa frase, se potessimo leggere questa frase, come? Siccome c'è un mercato omogeneo, dobbiamo darci una moneta omogenea. Un conto è dire, siccome vogliamo un mercato omogeneo, ci diamo una moneta unica. Un conto è che la moneta suggelli uno stato di fatto. Un conto è che questa moneta unica debba diventare il vettore di una omogeneizzazione. Ok? In termini tecnici, per chi può, ma questo veramente, cioè, la questione è, l'Europa era un'area monetaria ottimale oppure no? Molti economisti ai tempi dissero no, non lo è, non lo sarà e non ha neanche bisogno di diventarlo. È chiaro che l'Euro è andato in quella direzione lì. Quindi al, diciamo, al rimprovero che normalmente si fa all'Euro di essere stata una moneta costruita prima di aver fatto un'unificazione politica, abbiamo fatto un'unificazione monetaria prima di aver fatto un'unificazione politica, io aggiungerei un altro aspetto, che questa moneta unica è stata fatta subappaltando il processo di unificazione a qualcosa di estremamente privato che sono i mercati finanziari. La convergenza non c'era e quindi una moneta unica non aveva ragione d'essere. Vi faccio vedere una cosa simpatica, qui dovrebbe vedersi però, perché questo è, via, via, ecco qua. Questo è il peccato, ah no, scusate, eccolo qua. Questo è il peccato originale della Unione Monetaria Europea. Vedete che alla fine degli anni 90 le bilance commerciali sono in pareggio per tutti. È con l'Euro che i bilanci commerciali esplodono. Esplodono nei due sensi evidentemente, nel senso di una crescita importante dei surplus, ma quindi anche di una crescita importante dei deficit. Che cosa si è chiesto ai mercati finanziari? Che in quel momento, e già a partire dall'85, Delors lavora per liberalizzare completamente con una ferocia, diciamo, ancora più forte con cui si liberalizzavano i mercati finanziari fuori dall'Europa, con una determinazione ancora maggiore, si chiede ai mercati finanziari di finanziare questi surplus, questi deficit, permettendo ai surplus del nord, diciamo, o del centro, di andare in periferia. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è quella che i deficit sono il segno di una arretratezza tecnologica, diciamo così, ma quindi anche di un potenziale, come si dice, di catching up. Qui ci sono delle potenzialità. Quindi i capitali accumulati al nord possono andare al sud, avendo oltretutto un vantaggio in termini di redditività, perché appunto c'è un rischio, lo spread per quanto contenuto è maggiore, quindi si guadagna di più prestando al sud, questi prestiti consentiranno al sud di fare investimenti produttivi, che gli consentiranno di guadagnare produttività, che gli consentiranno alla fine di riassorbire i loro deficit esportando. Questa era l'idea. e invece io, diciamo, e qui vado un po' veloce perché mi rendo conto che sto parlando da un'ora abbondante, sì, quindi non voglio tediarvi ulteriormente e la mia proposta ve la dirò veramente in pillole, senza entrare nei dettagli, perché veramente se no ci uccidiamo tutti. Io compreso morirei qui come Molière, non è il caso. In realtà quello che possiamo dire è che i movimenti di capitali hanno semplicemente nascosto degli squilibri che sono riemersi potentemente con la crisi del 2010. Che cosa è la crisi del 2010? Si scopre improvvisamente, povere anime belle, che abbiamo finanziato troppo i greci che hanno falsato i conti, certo, perché i banchieri che prestavano ai greci non avevano nessuna capacità contabile, cioè è evidente che voglio dire che è facile fare una germinella a Merrill Lynch, basta mettere due numeri a caso e loro ci credono, evidentemente. Quindi si scopre improvvisamente che la Grecia non ha un deficit del 3%, ma del 10, mi pare, del 15, comunque è una cifra enorme e che cosa si fa? Si smette di finanziarla. Si vendono i titoli di debito greco che fino a un momento prima erano stati comprati perché semplicemente rendevano di più e si crea una situazione evidentemente a questo punto di default. La Grecia è chiamata improvvisamente a pagare dei debiti per i quali non trova più rifinanziamenti sostanzialmente. A fronte di un default, io credo che per semplificare valga quantomeno la tesi interpretativa, adesso poi lasciamo perdere le sue terapie, ma la tesi interpretativa di Varoufakis che la dice dal 2012 in avanti, dice quando uno Stato è in default si fa la ristrutturazione del debito, non gli si presta più niente e semplicemente si capisce, si decide con i creditori come riequilibrare le cose. E invece, va bene, con la Grecia sappiamo come è andata e in generale sappiamo che a questo punto si è instaurata una spirale, diciamo così, di austerità, una rincorsa, diciamo, della stabilità finanziaria che si è fatta a colpi di deflazione e di riduzione della crescita. Oltretutto una corsa, ovviamente, diciamo così, un po' come Achille la tartaruga, perché io devo diminuire il rapporto debito-PIL, agisco su, cerco di diminuire il debito, ma di fatto riduco il PIL e quindi anche se ho ridotto il debito, avendo ridotto il PIL, non ho ridotto il rapporto debito-PIL. La vedete la cosa, no? Si entra in questa fase di austerità dalla quale, diciamo, siamo usciti semi tramortiti con un'Europa che fa fatica a riprendere. E qui ritorno alle considerazioni iniziali, no? L'Europa ha trovato un equilibrio, ma un equilibrio mortifero e un equilibrio soprattutto poco vivificante, da cui, diciamo, sarebbe meglio uscire. E lo ha fatto, in effetti, imponendo l'onera dell'aggiustamento ai paesi debitori, quindi creando, in realtà, non una cooperazione fra paesi, ma una competizione fra paesi, addirittura una, come dire, un'ostilità fra paesi, aumentando il grado di conflittualità fra paesi che invece sarebbero chiamati a collaborare. Per collaborare l'unica cosa da fare è ricostituire una Camera di Compensazione Europea. Qui vado veramente veloce perché, casomai poi, se ci sono domande, volentieri, ma non voglio entrare nei dettagli. Una Camera di Compensazione Europea ce l'abbiamo, evidentemente, perché abbiamo bisogno, per costruire l'euro, di un sistema di pagamenti multilaterale. Questo è evidente, cioè da tutti i paesi devono poter partire pagamenti in euro verso tutti i paesi. Ogni banca di ogni paese deve poter essere in rapporto con banche di altri paesi. Questa cosa si fa con un sistema che si chiama Target 2 e che registra semplicemente i trasferimenti di euro da un paese all'altro. Quando gli euro attraversano la frontiera passano attraverso questo sistema di pagamento. Questo sistema di pagamento ha proprio la forma di una Camera di Compensazione. Ci sono conti intestati alle banche centrali ed è tenuto dalla Banca Centrale Europea. Sono debiti e crediti nei confronti della Banca Centrale Europea. Se sono in pareggio, sono in pareggio. Se sono in attivo, scusate, se sono in passivo, quindi se ho un saldo Target 2 negativo vuol dire che ho esercitato il diritto di usare moneta europea nei confronti di altri paesi. Se ho un surplus, vuol dire che ho il diritto eventualmente di esercitare l'uso di questa moneta nei confronti di altri paesi. Ho il diritto di spendere. Il bilancio europeo è, voi sapete, una quantità risibile, è l'1% del pile europeo. Quindi politiche di bilancio europee sono difficili da pensare semplicemente per l'estrema risicatezza di questo bilancio. I saldi Target 2 positivi che, anche qui, non per caso, sono in capo essenzialmente alla Germania, ma diciamo ai paesi del nord, solo per la Germania sono di 800 miliardi. Se immaginassimo che questi soldi cominciassero a essere spesi, proprio in osseguo al principio di Keynes, evidentemente avremmo la possibilità di riavviare un ciclo virtuoso. Come potremmo fare? Potremmo innanzitutto cercare di applicare una decisione che la Banca Centrale Europea ha preso nel 2014 e poi non ha applicato, a proposito di decisioni di arbitrarietà nell'applicazione delle regole. Nel 2014 la Banca Centrale Europea dice che i saldi Target 2 positivi vanno gravati di un tasso di interesse negativo, cioè di una tassa. Li tieni lì, paghi. Sei sotto, paghi. Sei sopra, paghi. Allora, immaginiamo di metterla questa tassa, immaginiamo anche di metterla in maniera sostanziosa. Beh, questi soldi li potremmo mettere in fondi europei per l'investimento. Vogliamo fare l'investimento verde in Europa? Usiamo i fondi Target 2, li diamo in mano alla BEI, per esempio, alla Banca Europea degli Investimenti e facciamo fare delle missioni obbligazionari per finanziare le politiche verdi in Europa, per finanziare i fondi, per esempio, mutualistici contro la disoccupazione, per il sussidio di disoccupazione europeo. Utilizziamoli addirittura per forme di reddito di base europeo. Rimettiamo in gioco e in circolazione questi soldi, attraverso evidentemente i tassi di interessi negativi, ma soprattutto inducendo con i tassi di interessi negativi i detentori di questi surplus a spenderli, perché è ovvio che c'è un effetto di stimolo, cioè se io i miei soldi li posso tenere lì e non gli succede niente, li tengo lì. Se so che col tempo diminuiscono, forse tutto sommato comincio a pensare che un po' di shopping potrei farlo. E la Germania di shopping, avete voglia se non ha da farne, ha da fare innanzitutto shopping per ricostituire le sue infrastrutture. I ponti non cadono, per adesso sono caduti in Italia, ma rischiano di cadere anche altrove. Lo stato delle infrastrutture tedesche non è buono. Da un punto di vista distributivo, ma è evidente che i salari tedeschi, per quanto più alti di quei italiani, non hanno ancora conosciuto tutto il trasferimento degli aumenti di produttività. Cioè c'è un margine di rialzo dei salari in Germania che non viene utilizzato anche per una miopia evidentemente dei sindacati, perché si ha paura dell'inflazione. Ma un po' di inflazione in Europa in questo momento farebbe solo bene, visto che siamo in deflazione. Se la Germania ricominciasse a spendere, partirebbe un piano Marshall endogeno, senza neanche l'elemento diciamo così colonialista che è stato in qualche modo riconosciuto a piano Marshall. Gli americani ci fanno un favore ma si vogliono fare ringraziare, diciamo così. Qui partirebbe semplicemente una, come dire, una rimessa in circolo dei surplus che avrebbe un effetto benefico, non solo per coloro che sono in deficit, non solo per coloro che stanno sotto, ma anche alla fine per coloro che stanno sopra. Smetteremmo di segare il ramo su cui siamo seduti. Ci sarebbe un investimento sulla crescita complessiva della zona euro e dell'Europa. E questo investimento si potrebbe fare ridando all'Europa un tratto sociale e cooperativo che ha drammaticamente perso e che la sta condannando alla inanità politica all'interno e all'esterno. Io con questo mi fermo. Bene, grazie mille professore per l'intervento. Direi che la diagnosi è chiara e soprattutto grazie al suo approccio didattico, direi che abbiamo recepito il messaggio, anche la cura. Quello su cui vorrei porre l'accento, come sempre per chi ci ascolta, è di fare, di ripensare a quello che è stato detto, ripensare a come l'Unione Europea sta affrontando le varie questioni, come originariamente è stato pensato il progetto europeo, quindi quali erano i valori e le intenzioni. Ripensiamo ad esempio proprio al motto stesso dell'Unione Europea che pone l'accento sul fatto che la diversità sia forza. E quindi il mio messaggio è l'Unione Europea, la comunità europea e poi l'Unione Europea nell'espressione di questo messaggio, poi in pratica nelle varie decisioni di politica economica, è riuscita nel suo intento oppure no e quindi ad ognuno di noi la sentenza e di conseguenza in base a questo pensiero quale Europa vogliamo e insomma qual è il nostro pensiero per il futuro. abbracciando insomma quello che è l'approccio di sottosopra, di ripensare quello che è stato detto e di farsi una propria idea. Darei quindi possibilità di dialogo e chiederai quindi al pubblico se ci sono domande se... ok potete venire qua. Possiamo raccoglierne un po', preferisce uno a uno, vediamo se... dunque sì, una mezz'oretta direi che possiamo prendercela. Va bene, vogliamo iniziare? Puoi venire qua, sì. Salve, niente, innanzitutto mi è piaciuta molto la relazione del professore, però volevo fare una domanda proprio, perché io tempo fa sono stato a sentire, perché è venuto Emiliano Brancaccio e Olivier Brancaccio hanno fatto un confronto, esatto, e si ricorderà forse di quella appunto diciamo di Brancaccio in cui lui diceva no, di essere stato, lo dico per chi non c'era, è stato invitato da D'Alema praticamente a una convention del PSL per presentare il suo diciamo progetto di standard retributivo europeo e praticamente tutti i partiti sostanzialmente della sinistra, insomma del PSL, hanno accesso... beh i tedeschi dicono sì, molto interessante, il professor Brancaccio però diciamo l'Unione Europea è stata costruita su basi competitive e così deve restare sostanzialmente. Allora a questo punto io mi chiedo, ma anche Emiliano Brancaccio si chiedeva, se più che a livello di tecnico, diciamo di fattibilità tecnica, se sia fattibile a livello politico una riforma dell'Unione Europea, cioè e se sia forse a questo punto, cioè date le premesse, cioè dato il fatto che mi pare che la Germania non abbia un interesse a uno Stato federale europeo, dato che vuole scaricare appunto sui paesi, i propri problemi sui paesi della periferia, non sia preferibile un exit con tutte, nonostante diciamo le conseguenze sicuramente non indoloriche, però diciamo preferibile rispetto diciamo a una prolungata diciamo agonia perché se si va avanti di questo passo, insomma, come aveva anche spiegato lei, colpi di diciamo di deflazione salariale, niente, questo volevo chiedere. E innanzitutto io c'ero e mi ricordo quando Emiliano raccontò il suo sconsolamento, dice siamo tutti d'accordo per fare uno Stato europeo retributivo e addirittura per diciamo giocarci la carta degli aumenti salariali come forma diciamo di rilancio e questi mi dicono di no, allora la prima reazione è che forse Emiliano si è sconsolato un po' troppo presto, nel senso che tu dici giustamente è una questione politica, beh allora la politica non è che uno ti dice di no e tu dici beh allora basta, cioè devi anche un po' insistere, anche perché la politica è l'arte diciamo del coglimento delle occasioni e le occasioni sono mutevoli, cioè il contesto è mutevole, voglio dire quando Emiliano parlò con questi non è più, nel frattempo la situazione è cambiata, cioè io sono piuttosto convinto che in questo momento possa cominciare a diventare più semplice anche per una Germania che comunque anche in fase di cambiamento diciamo di leadership prendere in considerazione queste ipotesi. Quindi se è una questione politica io dico bisogna insistere, anche perché la questione dell'exit diciamo apre delle partite in cui francamente nessuno conosce, di cui nessuno conosce l'esito, nel senso che certo c'è un articolo di Magnai che dice si è già usciti da unioni monetarie, ma non da un tipo di unione di questo tipo, cioè le irreversibilità che sono state create dall'euro sono tutte tranne che da sottolotarsi. Un piccolo esempio ce l'abbiamo con la Brexit. Usciamo, 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 endo usciamo. Ah ma se usciamo ci reindustrializziamo. Sì, ma peccato che sei in una catena del valore internazionale per cui non è che ti reindustrializzi, tu stai a fare dei pezzi di Toyota. Quindi cosa fai dopo? Siamo indubbiamente in una situazione di guado e in una situazione estremamente tesa. Lo dico in un'altra forma di un altro economista che non è Blanchard, non è emiliano, ma è Stiglitz. Dice se l'Italia resta nell'euro si distrugge, se l'Italia esce dall'euro lo distrugge, ma io aggiungerei magari senza neanche salvarsi. Quindi siccome non credo, cioè se avessimo la possibilità, la dico così, se avessimo la possibilità di un'uscita ordinata dall'euro allora avremmo anche la possibilità di un cambiamento ordinato dell'euro. Perché un'uscita ordinata vuol dire che ricominciamo a parlarci. Ma allora se ci... perché ricominciare a parlarci per non vederci mai più? Cioè capisci cosa voglio dire, no? Quindi la questione politica è questa. La questione politica è questa. C'è qualcuno fra pubblico che era presente in un'altra conferenza in cui citai una frase di Bagnai del suo penultimo libro del 2014, credo, in cui diceva la soluzione della Camera di Compensazione è la migliore soluzione possibile e c'ha ragione Amato. Peccato che non si possa fare perché ci vai tu a parlare con la Merkel, disse... e fu una mossa retorica, siccome non si può parlare con la Merkel allora bisogna fare come dice Bagnai, no? E io invece dico ma con la Merkel chi ci ha parlato davvero? Le condizioni per parlare la Germania in questo momento sono diverse dalle condizioni a cui si poteva parlare la Germania cinque anni fa, tre anni fa. La sensazione cioè che lo stesso establishment tedesco possa cominciare a leggere i segnali sinistri di crisi che stanno arrivando in una maniera tale per cui forse c'è un tornaconto a non essere più competitivi ma collaborativi, vanno tutti esplorati, tutti esplorati. diciamo, come diceva Luigi XV, che dopo questo tentativo il diluvio, nel senso che... però io un tentativo lo farei ancora, insomma. Su questo con Emiliano ci siamo anche sentiti, gli ho detto ma dai proviamo, insomma... lui in questo momento è ancora su posizioni estremamente attendiste, dice io sono piuttosto per un utilizzo sistematico dell'articolo 65 per, diciamo, la... come dire, il blocco del movimento dei capitali. Piuttosto che li parla di un blocco dei movimenti capitali alla Cipro, tanto per intenderci, ma perché non cominciamo a parlare di una regolazione dei movimenti dei capitali? E addirittura, lo ricordo perché questo è importante, a lavorare nella direzione di forme di pagamento multilaterale, di cooperazione multilaterale, che i movimenti dei capitali non è che li vietano, ma li rendono impossibili e non necessari. Ricordo ancora quello che avevo detto a proposito di una camera di compensazione. Se una camera di compensazione funziona, i movimenti speculativi di capitale non hanno ragione da essere. Quindi se io tolgo alla radice la possibilità, diventa anche più facile regolarlo. Se non ho una mobilità generalizzata dei capitali, posso cominciare davvero a lavorare sui paradisi fiscali, posso davvero a lavorare sulla armonizzazione fiscale, posso davvero cominciare a lavorare per una mutualizzazione delle politiche. Quindi questa secondo me è la strada. Poi ovviamente, se vogliamo dirla, questo lasciatemela dire, Emiliano ha scritto sul suo blog, io ringrazio sentitamente tutti quelli che mi hanno detto se mi volevo candidare, ma dico no, io mi candido. Questa è anche poi la differenza, nel senso che poi bisogna giocarsela. Scusate, se me la permettete, però è interessante però vedere che in questo momento, in tutta questa campagna elettorale che evidentemente sto seguendo, non trovate di fatto nessuno che dice usciamo. Tutti ti dicono cambiamo l'Europa. L'ha detto persino Salvini e lì ho cominciato a spaventarmi davvero, perché se mette mano all'Europa, come ha messo a mano la legge Fornero o altre cose, siamo a posto, no? Voglio dire, ma non mi basta che tu mi dica che la vuoi cambiare, io voglio sapere che tu mi dica come. Allora, io dico, la strada di una Camera di Compensazione Europea è praticabile a trattati invariati. Si tratta semplicemente di cominciare ad applicare le regole. Ci sono già tutti. Quello che ci manca, ovviamente, che cosa è? Beh, sono le monete nazionali, quelle le abbiamo perse, no? Quindi un margine di manovra in più l'abbiamo perso. Potremmo avere, e su questo io sono del tutto aperturista, le monete fiscali, le monete complementari, delle forme, diciamo, di moneta locale che potrebbero avere degli effetti espansivi locali senza avere degli effetti, diciamo, squilibranti a livello generale. C'è qualcun altro dal pubblico che vorrebbe fare qualche domanda? Allora, ok. Le chiedo gentilmente se può, può venire qua? No, ho capito che, appunto, se si comincia a dare, finanziare i paesi che in questo momento non hanno capacità di farlo per espandersi o per produrre, è un inizio per creare lo sviluppo di paesi che oggi sono sottosviluppati. Ma se questi paesi non sono capaci o non hanno gli strumenti per farlo? Cioè, immagino, i finanziamenti europei che già oggi ci sono vengono largamente sprecati o sottutilizzati. Quindi darne di più, ma se questi continuano non essere utilizzati, non porta poi di fatto a questo sperato sviluppo. Grazie. Sì, qui però sono d'accordo, voglio dire, mi permetto di ricordare che ho esordito questa conferenza dicendo che qui ci sono dei problemi di struttura dell'euro e l'euro è una delle cause del malessere europeo, non è l'unica, nel senso che ci sono poi anche delle responsabilità che hanno a che fare con le storie dei singoli paesi. Questo lei mi sembra che stia evocando. Però, fatta questa precisazione, aggiungerei che qui bisogna però distinguere fra quello che dice lei e quello che dico io in questo senso. Non sono incompatibili, ma sono proprio due cose, diciamo, che potrebbero addirittura rafforzarsi a vicenda, ma sono diverse. Lei sta parlando sostanzialmente di trasferimenti. Allora, in uno Stato compiutamente federale non esiste che, voglio dire, gliela dico così banalmente, negli Stati Uniti d'America se l'Oklahoma è in deficit. Non è che si riuniscono gli altri 49 e lo cacciano a pedate, no? Mi sembra. Semplicemente si ripiana il deficit dell'Oklahoma. Con che cosa? Beh, con i surplus dell'Oahio. Quindi uno Stato compiutamente federale fa trasferimenti, esattamente come lo Stato unitario italiano ha fatto dei trasferimenti dal nord al sud. Questo è evidente. Ha a che fare con la perpetuazione? Beh, certo che ci sono poi, diciamo, delle controindicazioni. Però, diciamo, l'unità è più importante degli effetti collaterali. Cioè, non si può giocare all'effetto collaterale. Altrimenti si fa la Lega. No? Ma allora ognuno ha casa sua. Ma veramente ognuno. Perché se uno fosse leghista fino in fondo dovrebbe amare solo se stesso. Non so come dire. L'unico vero federalismo leghista è quella roba lì. Comunque. Io non sto parlando però di trasferimenti. Non sto parlando di fondi strutturali. Che certo vengono utilizzati male, nel caso dell'Italia, anche evidentemente per clientelismi, inefficienze burocratiche, incapacità, tutto quello che vuole. Io sto parlando del fatto che il finanziamento dei paesi sottosviluppati, diciamo così, o comunque in deficit, io non sto neanche parlando di sopra o sottosviluppato, ma in deficit, avviene non attraverso il trasferimento di fondi, ma attraverso la spesa di fondi. Cioè avviene attraverso la domanda. Io non devo dare soldi a chi non ne ha. Io devo dare a chi ha la possibilità di vendere, la possibilità di vendere. E come gliela do? Beh, in un unico modo. Se lei è un barista, ha fatto un caffè, se nessuno vuole il caffè, il caffè l'ha fatto in vano. Perché un caffè arrivi fino in fondo bisogna che lei lo faccia, ma che uno glielo chieda. Ecco, allora, se rimettiamo in moto l'economia attraverso una spesa dei surplus che alimenta la domanda europea, avremo comunque una ripresa che poi va governata. Voglio dire, cioè non è che basta fare crescita. C'è evidentemente un tema di qualificazione della crescita, di qualificazione degli investimenti, di qualificazione. no? Però come si fa a dire vogliamo fare degli investimenti verdi, vogliamo fare degli investimenti sociali, vogliamo riqualificare l'Europa se i soldi non si muovono? Sto parlando di una condizione necessaria, magari non sufficiente, ma necessaria. Se non c'è neanche quella non si arriva alla condizione sufficiente. Non so se mi sono... Scusi, non sono sicuro di aver capito bene, ma ho l'impressione che le scelte dipendono anche da un concetto di quella che una volta era chiamata austerità, ma non nel senso di morire tutti di fame, ma di scegliere le cose produttive e non improduttive. Prima cosa. Seconda cosa, ma l'Europa se facesse, ovviamente l'Europa non esiste, esiste l'euro non l'Europa. Ma se l'Italia che si vanta di avere il patrimonio maggiore culturale, perché poi ci sono cose immateriali, la cultura non è una cosa, non è un pezzo di... sì, è un pezzo di sasso, ma... Se l'Italia chiedesse danaro per, per esempio, salvare quello che sta giorno per giorno perdendo della sua cultura, che poi non è cultura italiana, è cultura europea, beh, non è neanche cultura europea, è cultura mondiale, ma l'Europa questi soldi gli gli darebbe. Dovrebbe dargli. Allora, hai toccato tanti temi, innanzitutto, che mi consente forse anche di chiarire quello che provavo a dire prima, è chiaro che la ripresa si fa, certo, agendo sulla domanda, ma in maniera qualificata, quindi, diciamo, quando si... quando si vuole veramente far ripartire l'economia, bisogna... scusi, non riesco a vederla, eccola qua, pardon, la dimensione degli investimenti è fondamentale, no? Cioè, possiamo certo sostenere i consumi, mi sto riferendo anche al reddito di cittadinanza, alle forme che sono state utilizzate qui da noi, voglio dire. È certo che di fronte a situazioni di povertà bisogna, come dire, almeno far arrivare le persone una soglia, lo si può fare in un modo o nell'altro e un sostegno ai consumi va dato, ma la ripresa si fa con gli investimenti, numero uno, questo semplicemente perché il moltiplicatore degli investimenti, cioè un euro speso in investimenti crea una quantità di crescita superiore che un euro speso in consumi. C'è un rapporto perché gli investimenti si fanno se i consumi ci sono, quindi voglio dire, però bisogna saper distinguere e non solo, bisogna distinguere fra investimento e investimento, cioè qui non abbiamo semplicemente bisogno di investimenti, di grandi opere, quali che siano, basta che siano grandi opere, abbiamo bisogno di investimenti che abbiano a che fare con la ristrutturazione del patrimonio tecnico, con la conservazione di quello che abbiamo, ma anche con la costruzione di quello che non abbiamo. Che cosa non abbiamo, per esempio? Non abbiamo un patrimonio di difesa dell'ambiente che abbia una valenza economica, non abbiamo un Green New Deal, però abbiamo un'emergenza, diciamo, ecologico-climatica che è evidente, allora se agissimo lì sarebbe importante. Questo è il primo aspetto, le dice c'è l'euro, non c'è l'Europa, c'è anche l'Europa, soffocata dall'euro, questo mi permette, glielo dico proprio così, ma è una battuta e poi possiamo rimanere ovviamente ognuno della sua o continuare a discutere più nel dettaglio. Sulla terza cosa che lei dice, a me sembra importante insistere sul fatto che, prima di chiedere i soldi, se l'Italia chiedesse all'Europa i soldi per... in una struttura cooperativa, realmente cooperativa, i soldi non si chiedono, i soldi circolano, i soldi si hanno perché tutti li danno, perché tutti li rimettono in circolazione. Allora, prima di immaginare politiche di finanziamento, fondi europei per, che io stesso ho auspicato, quando dicevo prendiamo i saldi target 2, tassiamoli e facciamo dei fondi, possono essere fondi per la green economy, possono essere fondi per la conservazione del patrimonio culturale e artistico, si può andare in mille direzioni. Possiamo fare dei fondi, ma soprattutto dobbiamo avere dei flussi, cioè dobbiamo avere una rimessa in circolazione del denaro perché l'economia, come si dice, giri. Perché l'economia non sta girando. E do un altro esempio qui, di denaro in Europa, dalla crisi a oggi, ce n'è molto di più perché Draghi ha triplicato la base monetaria. Ci sono il triplo degli euri che c'erano nel 2010, ma questi euri, siccome non circolano, non sono moneta. La moneta è quando circola, quando? Non circola, puzza. È un po' come l'acqua, che si stagna, poi prima o poi i microbi arrivano, insomma, cominciano delle cose, capito? E non c'è neanche l'effetto un'infea, diciamo, del moneta. Ecco. Buongiorno. Volevo chiedere che influenza pensa che avrà l'istituzione del Parlamento franco-tedesco sulla effettività ed efficacia della democrazia europea? Diciamo, non c'è un immediato collegamento con quello che ho detto fino adesso. È una mossa, diciamo, simbolicamente strana, voglio dire, in un momento in cui ci sono tensioni così forti che l'asse franco-tedesco, anche solo simbolicamente, si voglia ricostituire in questa maniera. È chiaro che, diciamo, è simbolicamente non un buon segnale. Non ho guardato veramente a fondo quel trattato siglato, appunto, nella stessa città dove Carlo Magno invece fece ben altre cose. Ma mi sembra che sia piccato un'operazione di marketing. Un'operazione di marketing. C'è un problema reale di... qui è chiaro che ci sono delle tare nell'Europa e le tare si chiamano eredità nazionalistiche. L'Europa diventa un focolaio di guerre a partire da una rivalità franco-tedesca che inizia nel 1870. Prima guerra. Revanche. Pensarci sempre e parlarne mai. 1914. Te la facciamo pagare noi perché tu hai fatto, ti sei fatto programmare Kaiser nella stala degli specchi di Versailles e noi ti facciamo firmare a te Kaiser la tua capitolazione nella stala degli specchi di Versailles. E poi arriva... insomma, è chiaro che nel 1945 si dice adesso basta. Cioè, il problema è evidentemente storicamente la rivalità franco-tedesca. Che finisce con quella manina nella manina di Mitterrand e Colle. Non so se te la ricordi, ma insomma fece impressione. Si visero sul Reno, cioè, no? Su quel fiume al di là del quale Luigi XIV voleva che non ci fosse niente, se non dei piccoli stati da egemonizzare. Per cui stiamo parlando veramente di linee della storia europea che vanno alla guerra dei trent'anni, per certi versi. È chiaro che c'è un problema di relazioni preferenziali e di anche immaginari che giocano contro un sano processo di unificazione europea. Dopodiché, a me sembra che in questo momento la Francia abbia un serio problema interno che o risolve bene o risolve con delle svolte autoritarie. Perché il modo in cui, diciamo, le forze dell'ordine stanno trattando il problema di legion è non va bene. Non è possibile che ci siano dei morti. Io abito in Francia, le ho viste le manifestazioni. Un giorno tornavo a casa e ho dovuto fare un giro lungo perché c'erano 100 manifestanti e 200 poliziotti. E i manifestanti non erano affatto pericolosi, non so come dire. Quindi c'è una tendenza anche... La Francia ha un problema, diciamo, interno. La Germania ha storicamente qualche cosa che assomiglia a una volontà di egemonia e a una paura dell'egemonia. Perché? Perché lo sappiamo, no? Perché l'hanno esercitata, hanno tentato di esercitarla militarmente e è andata come è andata. È chiaro che bisogna superare queste cose. E non è certo con un trattato fra Merkel e Macron che probabilmente non ha grandi contenuti che la cosa si risolve. Ma, ancora una volta, ci sono altri stati, ci sono altre forze che possono giocare il loro ruolo e c'è soprattutto un Parlamento europeo, se vuoi, e comunque una comunità politica europea che deve lavorare nella direzione della massima mutualizzazione possibile delle politiche. ma, appunto, forse è più il segnale simbolico che è preoccupante che non l'effetto pratico. Volevo tornare un attimo sulla questione della camera di compensazione. Mi ispiro a quello che ha dichiarato un economista post-keynesiano Lavois sull'Eurozone e sul Target 2. Allora, premesso, io sarei assolutamente favorevole al 100% a un assetto istituzionale come quello descritto da Keynes, quando si doveva progettare un'economia di pace in Europa dopo la guerra. Quindi mi va benissimo la proposta. Lavois però sottolinea, il quale anche lui è d'accordo con questa proposta, sottolinea, però attenzione, il Target 2 che abbiamo nella zona euro è effettivamente un pezzo del disegno che Keynes aveva in mente, cioè è già una camera di compensazione. Ora, quindi, intanto, secondo me questo va un po' chiarito, nel senso che già un passo in questa direzione c'è, però proprio questa camera di compensazione serve a prevenire delle crisi delle bilanze dei pagamenti dovute per esempio a fughe di capitali e di per sé da solo non impedisce questa accumulazione del surplus e questa, cioè i surplus e i deficit grazie al Target 2 possono diventare cronici, si cronicizzano, non c'è nessun meccanismo che li faccia rientrare. Quello che aveva in mente Keynes, oltre al meccanismo di compensazione, era anche un meccanismo che tu hai descritto ottimamente di sanzione, cioè se un paese va oltre un certo livello di surplus, allora lo si tassa, si svaluta, cioè si rivaluta il suo cambio eccetera eccetera. Quindi revisionabilità dei tassi di cambio e sanzionabilità dell'eccesso di surplus e sono tutte cose che invece mancano. Quindi in realtà quello che manca dal punto di vista della proposta del Bancor di Keynes sono questi altri pezzi, cioè la camera di compensazione di per sé ce l'abbiamo e se vogliamo dirla tutta sta facendo anche del danno perché permette appunto l'accumulazione in un contesto di libertà di movimenti di capitali l'accumulazione di surplus cronici e deficit che si cronicizzano pure. Ecco volevo sapere un po' cosa ne pensi su questo. Beh da una parte hai fatto un ottimo riassunto delle cose che dicevo appunto di Target 2, nel senso che, dico, Target 2 è tecnicamente una struttura che ha la formula della camera di compensazione semplicemente perché bisogna, perché è l'infrastruttura del sistema di pagamento, quindi da questo punto di vista, cioè le manca tutto quello che dicevi tu e che ha a che fare con stimoli alla riduzione. Che faccia danno sì e no, nel senso fa danno perché impedisce di affrontare direttamente il problema, non fa danno nella misura in cui se no senza Target 2 l'euro sarebbe già saltato. Era quello che mi auguravo quindi maledetta Target 2, però voglio dire io siccome non me lo auguro dico, non dico benedetta, dico beh insomma abbiamo messo il ditino nella crepa della diga, adesso però non è che dobbiamo stare tutto il tempo così, dobbiamo anche fare qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Tu hai messo il dito su una falla di Target 2 che è importante, cioè la grande differenza fra Target 2 così come adesso e la Unione Europea dei pagamenti e l'Unione, la Clearing Union di Keynes è che Target 2 registra tutti i movimenti, tutti i pagamenti, anche quelli che non hanno come corrispettivo un movimento di merci. Cioè un trasferimento di capitali passa per Target 2 esattamente come la vendita di una BMW o di un yogurt faie, tanto per, insomma anche i greci hanno qualcosa da esportare, insomma non voglio dire, no? Allora, e questo nell'articolo su Open Democracy e anche su altri articoli che per esempio ha fatto Fantacci, che hanno fatto anche Andrea Papetti che è un mio allievo, che ha scritto delle cose molto precise, anche per l'ISPI voglio dire, insomma ci sono, comincia a esserci insomma una certa varietà e una certa, diciamo una certa precisione nella proposta, ma quello che ci sarebbe da fare, che dicono nell'articolo con l'Anne Pettifor, è instaurare, almeno da domani, visto che il passato ti ha dato dato dato, è innocente da fare, ma per il futuro una sottosezione di Target 2 che possiamo chiamare Target 2 commercio, Target 3 voglio dire, poco importa, in cui però funzionano solo i pagamenti, commerciali, cioè solo se c'è una BMW o uno yogurt registriamo dare e avere. E a quel punto lì sì che io posso ragionare sistematicamente con le charges, con le tasse e con i tassi di interesse negativi, perché diciamo io posso dire ti tasso il tuo surplus perché tu tasso il vantaggio che hai avuto a vendere delle merci che senza Target 3 non avresti potuto vendere. Su Target 2 ha chiaramente cristallizzato una situazione, ormai noi abbiamo Target 2 diciamo con saldi attivi e passivi e bilancio commerciale di fatto in pareggio, quindi evidentemente tutto quello che è su Target 2 sono movimenti di capitali, cioè sono fughe di capitali, tanto per dirla tutta, cioè è un drenaggio di capitali dal sud verso il nord, dalla periferia verso il centro. Ciò non toglie che tassi di interesse negativi si possono mettere, non puoi mettere le quote, ma puoi mettere i tassi di interesse negativi. Magari questi tassi di interesse negativi non riducono la volontà di spostare capitali, ma intanto creano dei fondi su cui si può lavorare. Se Target 3 lavorasse parallelamente noi avremmo la possibilità di introdurre una sana distinzione che, appunto, lo ridico, l'ho detto, l'Europa del 1957 conosceva benissimo. Il libero mercato, il mercato unico, quella cosa che noi vogliamo che troviamo tanto bella, è una cosa diversa se è solo mercato di merci o se è anche mercato di capitali. Allora, io sono per l'introduzione della restrizione della mobilità dei capitali e sono per l'introduzione di forme finanziarie che non passano per il movimento dei capitali. Target 3 non passerebbe per il movimento dei capitali. Beh, ma ancora una volta, io non ho nulla in contrario. È una strada difficile perché sono quelle cose, diciamo così, che devi fare, che devi annunciare dopo che le hai fatte. Perché, voglio dire, non c'è niente da fare. Se tu annunci che restringerai i movimenti dei capitali, finché c'è libertà, i capitali si muoveranno di conseguenza. È la grande obiezione alla patrimoniale. Fai la patrimoniale e i capitali voli. Quindi la patrimoniale la fai come la fece Amato. Mica io, Giuliano, quando disse, sapete che c'è, da ieri non avete più una certa percentuale dei vostri soldi sul conto corrente. Da ieri. Lo disse dopo. E lo fece sui conti correnti, oltretutto, con effetti sperequativi mostruosi che conosciamo, insomma. E tuttavia il fatto che Olivier Blanchard insista, io, appunto, non c'è più la persona che era presente al dibattito con Brancaggio. Ah, c'è ancora. Beh, non ti sarà sfuggito che a un certo punto, io sono rimasto, ve la dico così perché, insomma, la dici ai miei amici, ma, insomma, la dico qui volentieri anche a voi, no? Olivier Blanchard dice, fa un discorso di questo tipo, ve lo racconto tutto. Io sono per il capitalismo, perché non c'è alternativa. Vabbè. Però, ragazzi, qui va male, quindi bisogna fare delle politiche un po' espansive. Ci vuole l'economia mista, bisogna che lo Stato, va bene. Che cosa bisogna fare? Beh, al limite anche delle forme di reddito di base. Parlò di reddito di base, di cittadinanza e disse, e se per caso ci fosse una reazione negativa dei mercati finanziari, dobbiamo fare la restrizione dei movimenti di capitale. Lui lo disse. Io volevo alzarmi e dirgli, ma guarda che se restringi i movimenti di capitale stai agendo proprio contro quel capitalismo di cui tu dici essere il paladino. Ma al netto di questo, quello che ti voglio dire è che già nella, quello che si chiama mainstream, c'è una chiara tendenza. Ma non solo nel mainstream, nel mainstream istituzionale, cioè il fatto che Blanchard lo dica adesso, vuol dire che il Fondo Monetario Internazionale è da 3-4 anni che dice non tutti i movimenti di capitale sono buoni. E quali sono quelli non buoni? Beh, quelli di portafoglio, quelli che alla fine non beneficiano mai il beneficiario. Perché se io ho dei soldi, ho ottengo dei soldi che domani, in un istante se ne vanno, io su quei soldi che affidamento posso fare? Come faccio a costruire una vera economia su soldi che possono sparire da un momento all'altro? Bisogna fare come fece la Cina. Vuoi portare i soldi qua? Eh, comprati dei pezzi di impresa. Entra nel capitale. E soggiace alle mie leggi tributarie, voglio dire. Gioca il gioco. Se c'è da guadagnare, guadagni. Se c'è da perdere, perdi. Non che quando ti sembra che potresti perdere, te ne vai un giorno prima lasciandomi in braccia di tela. Si chiama sudden stop, interruzione improvvisa del flusso, e ha degli effetti devastanti, evidentemente. Allora, più che ridurli, ancora una volta, si tratta di ridurre la necessità di questi movimenti. È chiaro che se noi riuscissimo a fare un target 3 fatto molto bene, diminuirebbero i capi, diminuirebbe la liquidità in cerca di piazzamenti e diminuirebbe la ricerca di liquidità, perché diminuirebbero i debitori. Quindi, ecco. Ci sono altre domande? Ma più che una domanda, perché è tutto super ragionevole, è chiaro che se si potesse riformare questo è il modo giusto, e che probabilmente anche la Merkel potrebbe essere d'accordo. Il problema però, come la mettiamo con la psicologia sociale? Cioè col fatto che ormai l'ordoliberalismo in Germania è diventato una forma quasi di tipo religioso. Non è che sono, cioè, non pretendo neanche, è chiaro che ci vorrebbe la sfera di cristallo, però temo che il vero problema in realtà è che abbiamo i razionalismi qui e i razionalismi là, e siamo in una fase in cui si potrebbe anche leggere gli ultimi dieci anni già come una guerra, perché come dicevi tu, giustamente in Grecia, ma anche nel sud Italia, bambini sono morti. In Italia siamo in una situazione di malnutrizione di bambini di classe media. Quindi, insomma, ci sono tutte le condizioni per vedere una guerra in corso. Quindi il tema sarebbe proprio capire come creare una riconciliazione tra popoli, forse, perché il problema è, penso che se non si arriva a quello, cioè uno legge i giornali tedeschi e ancora c'è questa narrazione assurda dei pigs cattivi che vogliono togliere, e noi invece vediamo il popolo tedesco cattivo, i germanici, i kruchen cattivi. Il problema è che c'è poco tempo, quindi non è che pretendo una soluzione, però mi sembra che alla fine ben venga il fatto che ci sia chiaro un quadro istituzionale alternativo, che non sia soltanto cambiamo, trasformiamo. Però è logico che in un'Europa che è costruita sulla competizione da vent'anni c'è un cambio culturale anche, non può essere soltanto una domanda, provocazione. Risponderò con delle frasi secche, perché sennò veramente qui ricominciamo per altre tre ore. È fondata sulla competizione, sì, aggiungiamo l'aggettivo giusto, mercantilistica, e questa cosa va detta, perché almeno la smettiamo di parlare di liberalismo, di sciacquarci la bocca con parole che non sappiamo neanche più cosa significano, primo, prima cosa. Ci sono delle polarizzazioni? Sì. Queste polarizzazioni impoveriscono il linguaggio politico? Sì, perché si urla e non si ascolta, è evidente che è così. Siamo sull'orlo di un baratro? Sì. E allora che fai quando sei sull'orlo di un baratro? Dici, vabbè, c'ho ancora un centimetro o me lo gioco? No, mi gioco proprio l'ultimo centimetro. Se sono sull'orlo è proprio il momento in cui magari mi muovo. Non ce la faccio? E vabbè, però c'ho provato. Il 100% di quelli che hanno vinto hanno giocato. E da questo punto di vista più, diciamo, la partita si fa difficile, più va giocata, per certi versi. Perché altrimenti entri nel gioco delle aspettative e si autorealizzano, no? Ah, sarebbe bello ma non si può fare. E allora non lo fai e quindi non sai se sarebbe bello. Qui io userei due cose. La clausola salvatoria di Immanuel Kant quando scrive nel 1795 il saggio sulla pace perpetua. Dice, mi si dirà, ma questa è pura teoria, non si può fare. Beh, se è pura teoria lasciatemela dire. E non ditemi, perché l'obiezione non è non si può fare, ma non sta in piedi. Allora, intanto vediamo se questa teoria sta in piedi. E rimettiamo le cose come vanno rimesse. Prima cosa. Secondo, ripeterei magari, giusto per due tedeschi, no? Non c'è solo la Merkel, non c'è solo Hans-Werner Sinn, non c'è solo Oettinger che dice mercati finanziari segneranno a italiani a votare, no? C'è anche magari Max Weber. Max Weber nel 19 dice, in una conferenza meravigliosa che si chiama La politica come professione, dice, il politico che vive per la politica e non di politica, di fronte a un compito pressoché impossibile, dice, ci provo lo stesso. E forse è quello che salva, no? Quello che salva è provare l'impossibile. È difficile, sì, siamo sullo rebattro, sì, però i ragionamenti sono possibili e si possono fare qua, sarebbe bello poterli fare anche evidentemente con delle persone che potresti indurre ad essere un po' meno sordo e un po' meno miopi, evidentemente. È difficile con i tedeschi, sì, è molto difficile. Ma non immaginiamo, ancora una volta, non cadiamo nella prima trappola nazionalistica che è pensare che i tedeschi sono tutti uguali, gli italiani sono tutti uguali. Un popolo è un popolo quando ha la sua dose di imbecilli e quando ha la sua dose di persone che ragionano. E quindi si tratta innanzitutto di parlare con le persone che ragionano. E ci sono, è evidente che ci sono. Aggiungerei molto velocemente una provocazione. Lei dice, ok, facciamo un target fatto bene. La storia italiana, cioè dell'Italia nell'Europa è una storia di persone, anche a livello politico, che si sono accorte di cose che non andavano bene e che però non si sono fatte ascoltare in Europa e hanno assistito a decisioni che sono state prese senza dire nulla, nonostante fossero consce delle conseguenze. L'intenzione, in questo caso, penso sia di evitare che la storia si ripeta di nuovo. Come si fa? Nel senso, lei dice, le istituzioni europee ci sono. È evidente che nelle sue decisioni politiche, immagino, quantomeno ci creda, però effettivamente ci sono davvero e quanto sono utilizzabili, cioè quanto potere abbiamo di utilizzarle e come ci possiamo fare sentire. Lo scopriamo. Non c'è altro modo. Cioè, di fronte al possibile non c'è che andarci incontro. Uno. E rispetto alla questione che dicevi tu, se l'impossibile si rivela impossibile, bisogna dirlo. Cioè, bisogna dire ho perso. Si è perso un'occasione. E dirlo. Questo non c'è alcun dubbio. Ma diventa una questione a questo punto, prima ancora che di onestà politica, di onestà intellettuale. Tu non hai fatto nome, non ne facciamo. Di persone che hanno visto il disastro e non hanno parlato. Ma ognuno ha il suo bettiario, insomma, e non voglio entrare nei serragli altrui. Però, per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice. Se non ci provi non lo sai e se non ci riesci devi dirlo. No, mi sembra che ci sia ancora un'eterna illusione di molta parte della sinistra di mettere sotto controllo una bestia che non si riuscirà, secondo me, a mettere sotto controllo. Cioè, i processi dei trattati sono stati studiati, a mio parere, apposta per dare i risultati che sono stati dati. Cioè, l'impoverimento dei paesi del sud e l'arricchimento dei paesi del nord. Io ribalterei la partita, la frittata. Noi siamo uno Stato con un popolo di 60 milioni abitanti. Secondo me dovremmo noi dire o rimettiamo a posto la logica e se no usciamo noi. Siete voi che ci dovete ricorrere ad avere la possibilità di verificare che anche i paesi, il nostro paese, i paesi del sud, abbiano il loro interesse. Perché se stiamo dietro all'interesse dei paesi più ricchi, da questa logica qua di suicidio controllato, non ne usciamo. Quindi io capisco l'idea di andare lì e trattare il Tarche 2 e il Tarche 3, ma rischiamo, secondo me, rischiamo di perdere ulteriore tempo e nel frattempo ci strozzano. Chiarissimo. Evidentemente è un'altra ipotesi, non è la mia, però le dico anche perché non è la mia. Non è la mia perché io non credo affatto a questa ricostruzione per cui tutto quello che è avvenuto è avvenuto per un lucido disegno di gente che sapeva esattamente che cosa voleva fare. Un mio amico, la cui memoria per me è fonte di eterna gratitudine, quando ero giovane mi disse io preferisco i cattivi agli scemi perché i cattivi talvolta si riposano. E io temo che queste elite non abbiano affatto avuto un disegno lucido, ma abbiano avuto un disegno molto opaco, cioè che questo sia un progetto ideologico. I progetti ideologici non sono mai lucidi, non sono mai lucidi, perché si vede quello che non c'è e non si vede quello che c'è. E poi alla fine rimane, diciamo così, quello che si chiamava un tempo la pruderie cattolica, il rispetto umano e insomma la vergogna ad ammettere che si è fatta una cazzata. Ok? Perché voglio dire, uno, poi tornerò su Varoufakis, ma la parte bella del libro di Varoufakis, ma se volete leggere il libro ancora più bello a proposito di elite demenziali, leggetevi le conseguenze economiche della pace di Keynes, dove fa dei meravigliosi ritratti dei grandi decisori, Clemenceau, Lloyd George, tutti matti, mezzi scemi, che hanno deciso il destino dell'Europa, gente malata. Cosa diceva Varoufakis? La sua sensazione, che non è mai stata smentita, è che questi sapessero perfettamente che avevano preso una topica, che la cosa migliore, che mi viene detta da tutti i miei colleghi in corridoio, era sanare il debito greco, perché era un buco poco superiore a quello che aveva fatto Madoff. Te pare che si muore per un buco così? Ecco. Ma una volta fatta quella frittata lì non si poteva più tornare indietro, perché dire abbiamo fatto una cazzata è una cosa che non ti porta voti. Ok? Quindi, diciamo, io non lo so, io veramente, se ci fossero disegni lucidi ci sarebbe in giro gente molto intelligente, io di gente molto intelligente non ne incontro non ne incontro, ma non ne incontro. Questo è il punto. Dopodiché l'opzione exit va valutata, io sono d'accordo, cioè Varoufakis questo disse, no? Cioè noi dobbiamo avere un'opzione exit forte perché così possiamo andare a negoziare. Ma io non ho ancora visto nessuna opzione exit che mi tranquillizzi, neanche quella di Varoufakis, tanto per intenderci, no? Dove sta la difficoltà nella posizione negoziale di Varoufakis? E che il suo dire io ho l'alternativa, ho il piano B, non lo credette nessuno. Capito? C'è il piano B, e fammelo vedere, non me lo fai vedere e non ce l'hai, capito? Se l'exit è un vero piano B, allora bisogna farla vedere, ma diciamo con un'abbondanza di argomentazioni, addirittura una sovrabbondanza di argomentazioni, se no il pokerista sa come si gioca a poker, no? Voglio dire, allora, se c'è la limitazione del rilancio si può ancora giocare, se uno può rilanciare all'infinito, non giocarci, perché arriverà il momento in cui il tuo bluff sarà visto, capito? Ti viene a vedere, tu perdi. Con Brexit come sta andando? Sorgnonamente l'Unione Europea sta lasciando a quella manica di rimbecilliti dei conservatori inglesi di distruggere da solo ogni opzione, senza risolvere i problemi, perché poi questo vuol dire che Farage ricomincia, no? Ma Brexit è ormai un verbo di gergo, no? Brexit vuol dire dire che esci, ma in realtà vuoi restare, no? Stava Brexitando vicino al frigo, ma in realtà, no? Al party. Cioè, dico, se vogliamo giocare la teoria, se vogliamo giocare un gioco, allora i payoff devono essere chiari, e io di chiarezza non ne vedo. E quando ho visto giocare questo gioco l'ho visto perdere, un po' perché la Grecia era veramente minuscola, e questo lo mettiamo, cioè l'Italia sarebbe un'altra cosa. Ma, capisce, in qualche modo la risposta l'avevo già data quando citavo Stiglitz, no? Cioè l'Italia se resta muore. Certo, in questa Europa muore, sono d'accordo, eh? Voglio dire, qui stiamo rischiando grosso. Abbiamo già rischiato grosso, abbiamo già pagato forte. Questo, voglio dire, bisogna dire le cose come stanno. È evidente che è così. Se sta dentro così muore. Se esce, fa morire, e quindi uno dice, caspita, eh, allora questa è l'arma di ricatto, guarda che esco. Perché è così che si negozia. Il potere negoziale di qualcuno si vede quando si alza dal tavolo. Se ti dicono no, per favore, risiediti, hai un potere negoziale. Se ti dicono arrivederci, scopri che non ce l'hai. Però la politica è portare a casa il risultato, non è giocare bluff. Capisce? Perché giocare bluff con i bluff degli altri, eh, non va mica bene. E io continuo a pensare che politicamente non sia una strada viabile. Però, diciamo, qui capisco il rispetto, insomma. Soprattutto, diciamo, l'analisi della sofferenza. Su questo veramente non ho niente da togliere a quello che lei ha detto. Una domanda molto veloce. Qual è l'eventuale piano B che propone lei? Il piano B è un piano C, cioè, o meglio, posso darvi anche un riferimento, è trasformare il piano B in piano A. Cioè, invece di usare l'idea dell'alternativa dentro così, senza cambiare, fuori, senza cambiare di fatto, no? Perché, voglio dire, no? Io dico, stiamo dentro cambiando. Il piano B si chiama camera di compensazione. Ma è appunto, non tanto un piano B, ma un piano C, un terzo piano, una terza posizione, se vuole, rispetto alle due, ma che dal mio punto di vista è l'unica posizione viabile. Perché, anche qui, siamo realistici. L'euro così, come dicevo fin dall'inizio, non dura. Muoia Sansone con tutti i felistei. L'uscita, dal mio punto di vista, appunto, qui ci siamo confrontati, non è un'opzione. E quindi, l'unica opzione da giocare è quella. Ma, appunto, io ne sono convinto da sette anni. Io, queste cose, ho cominciato a dire nel 2012. Però, credo che adesso sia veramente giunto il momento di vedere, di vedere le carte. Bene, grazie mille, professore. Ringrazio anche il pubblico per la vostra occupazione. Se qualcuno volesse rimanere, ci rivediamo alle due e mezza per gli interventi successivi. Grazie. 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 Grazie.